Buonasera a tutti, bentrovati, benvenuti ai nuovi relatori che saranno protagonisti della sessione di oggi pomeriggio che sarà moderata dalla nostra Federica Romano, dalla dottoressa Federica Romano. Prima però di iniziare l'associazione voleva omaggiare adesso i relatori di tutta di questa giornata, poi a fine convegno tutti i soci Pris con un pensiero che abbiamo fatto realizzare per voi da un artista locale e che rappresenta il simbolo della città di Amalfi con la scritta dietro che si riferisce alla nostra assemblea questo giorno, così portate un pensiero a casa. Adesso la nostra Federica Romano mi aiuterà a distribuirla, intanto ovviamente al sindaco della città di Amalfi, Daniele Milano. I colori, quelli che vi capitano, poi magari ve li scambiate tra di voi i colori. Per tutti i soci all'uscita e per tutti i paesaggi. Adesso simbolicamente lo diamo ai relatori. Quindi a Daniele Milano, un piatto, ringraziandolo. E l'artista, chi è Federica? Che li ha realizzato? Marco? Marco Fusco. Trovate i suoi riferimenti sui social, su Instagram e su Facebook, che poi è l'autore degli asinelli che avete visto al ristorante. Tutte le asinelli e lo stesso autore, sì. Ecco. A lui è capitato quello rosso, neanche a farlo apposta. Sangue partenopeo, gli è capitato il rosso. Allora, adesso chiamo il professor Mauro Agnoletti. Eccolo. Al nostro professor Agnoletti l'omaggio del ciuchino. Allora, in realtà ha detto che è il simbolo della città di Amalfi. L'asinello potrebbe essere di buon diritto il simbolo della costa d'Amalfi, anche perché senza gli asini non avremmo costruito tutto quello che vedete in posti veramente assurdi. Probabilmente oggi noi non ci sogneremo nemmeno di costruire in quei posti. Grazie all'aiuto di questi fantastici animali abbiamo quello che potete ammirare. Quindi Francesco Manconi, sindaco del comune di Bolotana. Ecco. Un applauso. Grazie a voi. Salvatore Marras, sindaco del comune di Meana Sardo. Quanti sindaci. Che bello. Che poi il ciuchino anche in Sardegna, vero? Ne abbiamo. Ne avete? Sì. Matteo Perrone, Parco Nazionale delle Cinque Terre. Eccolo. Michele Autiero, rappresentante della pratica agricola tradizionale dell'Alberata di Asprinio. Salvatore Aceto, il protagonista di un appassionato intervento durante la prima sessione che probabilmente non c'è. Vabbè, però lo conserviamo magari poi sì. Il dottor Luigi Di Marco. Membro della Segreteria Generale, referente dei gruppi di lavoro sui gol 6, 14, 15, 7 e 13 dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Poi la nostra Mariflo Magli, che è componente dell'aggiunta esecutiva del Parco regionale Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo. Michele Sonnessa, presidente nazionale dell'Associazione Città dell'Olio. Ecco. Vediamo che colore. Oh, che colore. Blu. Eh, ci sta. Ci sta pure. Blu. Sarebbe stato più opportuno verde. Verde, giallo, come il colore dell'olio. Sì. Elvira, la nostra Elvira Bortolomion, presidente del Consorzio Tutela del Vino Collegnano Valdobbiadene Prosecco, che ringraziamo perché hanno anche contribuito alla realizzazione di questo evento con un contributo molto sostanzioso. Quindi grazie Elvira anche per questo. Poi c'è Camillo Privitera, consigliere nazionale Associazione Italiana Sommelier. Raffaello Campostrini, sindaco del comune di Sant'Anna di Alfaedo, che è anche socio Pris. Poi c'è il dottor Angelo Barone, presidente della consulta nazionale dei distretti del cibo. Ecco. Grazie a te, presidente, per essere con noi. Il nostro Marcello Mari. Marcello, eccolo. Che è anche socio Pris. Grazie. E che ha contribuito alla realizzazione dell'evento. Giusto? Quindi grazie. Daria Niccolini, casificio Viale degli Ulivi di Semproniano. Sta arrivando, lo conserviamo, il premio. La nostra Cristina Scarpellini, dell'azienda Vitivinicola Tenuta Tirano. Ecco, Cristina. È arrivata Daria Niccolini. Eccola, eccola. Del caseificio Valle degli Ulivi di Semproniano. Signora, se si mette qui così le facciamo una foto. Ecco. Benissimo. E poi, per ultimo, ma non perché ultimo, assolutamente, Andrea Roggi, lo scultore che ha dedicato alla città di Amalfi e al nostro convegno queste splendide opere d'arte. Grazie. D'artista, artista. Ok. Per tutti i soci Pris ci sono i ciuchini all'ingresso, quindi li potete ritirare alla fine. Io lascio la parola a dottoressa Romano e noi iniziamo con la seconda sessione. Pisani sta arrivando, conserviamo anche per Pisani. Benissimo. Sì, 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 sì. Allora, buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati, al nostro convegno l'Italia dei paesaggi rurali storici, tra altre altre, arte, cultura e di identità. Questa, diciamo, seconda sessione della giornata è particolarmente importante perché rappresenta un pochettino il cuore del nostro convegno odierno, in particolare perché, come potete leggere dal titolo della sessione, appello dalle voci dei Pris, la sessione è funzionale un po' a rappresentare quelle che sono le istanze, necessità, minacce, diciamo così, dei territori che noi rappresentiamo per portarle all'attenzione, diciamo, dei portatori di interesse, del pubblico e dar voce, insomma, a chi quotidianamente combatte con le sfide, diciamo, che riguardano cambiamenti climatici, di sesso tridologico, incendi, abbandono dei territori, spopolamento, eccetera, eccetera. Vorrei adesso introdurre brevemente tutti i relatori e vorrei chiedere per favore di raggiungermi qui al tavolo relatori. Quindi, Mari Flommagli, l'abbiamo sentita prima, componente raggiunta esecutiva del Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo, per il primo appello sull'olivicoltura. Michele Sonnessa, presidente dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio, prego. Elvira Bortromiol, presidente del Consorzio Tutela del Conegliano Valdobbiadene Frosecco di OCG, per l'appello sulla viticoltura storica. Camillo Privitera, Consiglio Nazionale Associazione Italiana Sommelier, AIS, nel suo acronimo, per la parte poi che riguarda la formazione, diciamo, della viticoltura. Raffaello Campostrini, Raffaello, eccoti qua. Sindaco del Comune di Sant'Anna di Alfaedo, per l'appello numero tre sui paesaggi policulturali e agrosilbo-vastorali. Angelo Barone, presidente della Consulta Nazionale dei Distretti del Cibo, prego. Ed infine Marcello Mari, il nostro, diciamo, rappresentante per l'appello quattro che riguarda i paesaggi della bonifica e dell'acqua di irrigazione. Non so, ripeto, forse ci raggiungerà più tardi il sindaco Pisani, che è poi altrettanto invitato, diciamo, a raggiungerci qui. Allora, dicevo, questa sessione, giusto brevemente a livello introduttivo, come format abbiamo pensato di intervallare, diciamo così, appelli delle singole categorie di paesaggio che noi rappresentiamo, quindi dall'olivicolo, al vitivinicolo, al policulturale, agrosilbo-vastorale e ai paesaggi dell'acqua. Intervallare questi appelli, come dicevo prima, da esperienze e testimonianze da parte di enti e organizzazioni che lavorano, diciamo, nel loro quotidiano su tematiche e con una mission, diciamo così, per funzionare a, diciamo, a tutelare e promuovere i nostri paesaggi, diciamo, nelle varie forme e per le varie categorie. Vorrei quindi partire subito dalla categoria olivicoltura, quindi chiederei a Mari Flommagli, non so se è pronta con la sua presentazione, di partire con il primo appello che riguarda, ripeto, l'olivicoltura e dal titolo vivere e far sopravvivere l'olivicoltura storica, storie di sfide quotidiane, proprio perché si sta parlando di storie di, diciamo, di sfide quotidiane che gli olivicoltori si trovano a dover affrontare. Prego. Buonasera a tutti. Grazie per questa opportunità che ci date, grazie all'Associazione Pris, alla Presidente, alla Direttrice, a tutti quanti noi che da qualche anno abbiamo intrapreso questo bellissimo percorso. Siamo storici anche noi, dico io, perché insomma rappresentiamo dei paesaggi meravigliosi che rappresentano l'Italia, tutta per intero, dal nord al sud, senza esclusioni. Per quanto riguarda l'appello che noi facciamo come paesaggi storici delle olivetate, logicamente io parto dal mio paesaggio storico, che comunque comprende un attimino tutti i paesaggi olivicoli italiani, con tutte le varie proposte e tutte le varie difficoltà che ci sono da parte degli agricoltori a portare avanti questa pratica non facile. Noi vorremmo che ci fosse la proposta importante, come racconto qui, e riconoscere gli olivi di Puglia come foresta primigenia degli olivi e non soltanto gli olivi di Puglia. Ecosistema boschivo, agrofosterale, naturale, antropico, con valenza economica, ma anche pesaggistica, storica, culturale e ambientale, a cui estendere i vincoli di tutela già validi per le aree boschive, perché sappiamo benissimo che sono un po' più tutelate, con i nuovi strumenti di legge regionali, nazionali e comunitari. Questo logicamente non va soltanto per il nostro paesaggio, ma è una cosa che comprende tutti i paesaggi olivetati che sono nell'associazione. Noi vorremmo anche, l'altra proposta e la necessità, è di convertire la cultura biologica degli oliveti con apicoltura, sfalcio d'erba e triturazione e scarti di potatura, perché questo, da quanto si vede dagli studi fatti e tutto da quello che ogni giorno i nostri contadini agricoltori fanno, non fa altro che bene alla nostra agricoltura, e poi rintrodurre il pascolo brado, su appezzamenti da connettere tramite corridoi ecologici, soprattutto nei mesi non interessati alla raccolta delle olive, e quindi utilizzare allo scopo specie e razze tipiche della zona. Tenendo conto che ormai la raccolta delle olive da noi sta quasi terminando, almeno in Puglia, perché comunque si finisce entro la fine di novembre, ma siamo all'inizio di dicembre, questo potrebbe essere già qualcosa di importante da fare, logicamente con le razze autoctone. Questo noi un attimino lo facciamo già nel nostro parco, il parco regionale delle dune costiere ha un'estensione di 1100 ettari, quasi tutti, logicamente proprietà private, che comunque insistono nel parco e che hanno una produzione non soltanto di olivi, ma anche ci sono appezzamenti di terreni con ortaggi e quant'altro. Un attimo che vado sotto, se qualcuno mi viene a dare una mano capisco dove devo andare, perché non mi sta funzionando. la faccetta di destra, sì lo so, però non va, cioè lì sopra va, ma qui no. No, va avanti, scusa. Si è bloccato, non si muove. Lì, ma non qui. Allora, vabbè, la vedo qui. Questa è la nostra piana, è il pesaggio agrario della piana degli Olivetti Monumentali di Puglia. Come vedete è un bosco che va dalla collina verso il mare. Sono milioni di alberi, milioni di alberi, sì. Sono circa 60 milioni di alberi in questa zona che va nella zona di Monopoli, Pasano, Ostuni, Carovigno. È una foresta di alberi, meravigliosa. Io che ci abito, che ci sono nata e che comunque io mi emoziono a vedere questo paesaggio e non posso immaginare questo paesaggio cambiato. Ecco perché stiamo facendo di tutto, perché questo paesaggio, nonostante tutte le problematiche ambientali, cambiamenti di clima, l'impatto antropico e tutto quant'altro, possa rimanere quanto più possibile fedele a questo. Come vedete nella parte più a nord, qui sotto, è tutta zona dove ci sono le piante mediterranee. Man mano si scende e ci sono tutti gli oliveti. Gli oliveti che in alcune zone continuano a conservare il posto di quegli olivi che sono stati portati qui nel periodo dei Messapi e dei Romani. Per cui in alcune zone non ci sono boschi di olivi che sembrano a casaccio, ma sono così nella piana. Questo invece sono gli oliveti terrazzati di Valle Corsa, come potete vedere. Anche questi hanno una bellezza e una importanza grandissima, perché sono tutte queste differenze. Questi sono il paesaggio agrario olivastro storico, storici del feudo di Belvedere, anche questo in Puglia. Anche qui una marea, un fiume di alberi. Questo è il parco regionale storico agricolo dell'olivo di Venafro. Questo è un paesaggio particolarmente a me caro, perché comunque conoscendo anche i compagni di questa avventura, questo è un vecchio oliveto dell'epoca romana, per cui si mantiene ancora così proprio con lo storico lavoro che fanno gli agricoltori in zona. Grazie per l'attenzione, per una coltetta la volevo dire ancora. Bisogna ringraziare un attimino, perché ce la faccio, anche cinque minuti penso di farci. Bisogna ringraziare chi ogni giorno scende nei campi e lavora questi territori e questi prodotti. Dobbiamo fare un appello perché l'olio prodotto in queste zone possa essere valutato per quello che vale, perché comunque c'è un'agricoltura importante dietro ad ogni litro di olio che non può essere venduta a un prezzo stracciato, ma deve essere venduto per quello che vale, per tutta la storia che c'è dietro a un albero d'olivo e a tutto il paesaggio comunque che insiste in quella zona, perché non è soltanto un paesaggio storico rurale, ma un paesaggio storico rurale fatto di persone che abitano lì da centinaia di anni. Questo è l'appello che io faccio per tutti i paesaggi storici rurali italiani. Grazie per l'attenzione. Grazie a Maria Filomena Malli per questo primo appello sull'elvicoltura. Abbiamo sentito alcune di quelle che sono le sfide, minacce quotidiane che devono affrontare, come dicevo prima, i nostri territori da nord a sud. Adesso, come spiegavo poco anzi, il nostro format prevede che dalle istanze, dai singoli appelli, si passa invece alle testimonianze di chi invece nel quotidiano opera proprio per valorizzare, promuovere i territori olivicoli in questo caso. Do la parola con molto piacere a Michele Sonnessa per raccontarci la testimonianza dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio sul tema. Grazie. Grazie Federica. Un cordiale saluto anche da parte mia a tutti voi. Ovviamente io porto il saluto delle 470 città dell'olio italiane presenti nelle 19 regioni olivicole italiane che è un'associazione che dal 1994 lavora per promuovere il paesaggio olivicolo, per promuovere il patrimonio olivicolo, l'olio extravergine di oliva nella stretta relazione con i territori di origine. Ecco, territori di origine per noi sono valori fondamentali, assoluti, che vanno salvaguardati e vanno valorizzati. Ovviamente io ringrazio l'Associazione dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico per l'invito, la Presidente Patrizia Lusi e mi sia consentito anche un ringraziamento al Sindaco di Amalfi, a Daniele Milani, devo dire un sindaco di un territorio meraviglioso che è un affaccio straordinario, unico sul mare, conosciuto nel mondo, ma con un'intratenra rurale che è importantissima, una parte fondamentale della storia e dell'identità di questo luogo, così come le tante città dell'olio italiane. Io ringrazio per l'invito a questa importante iniziativa perché l'Associazione Nazionale Città dell'Olio, che ho l'onore di rappresentare sul tema dei paesaggi e sul registro nazionale dei paesaggi storico-rurali presso il Ministero delle Politiche Agricolo e ci ha creduto da sempre. Già dal 2015, quando è stato istituito il registro, anche grazie alle sollecitazioni, alla straordinaria collaborazione col Professor Agnoletti, che saluto e che ringrazio sempre per l'attenzione e per la grande disponibilità che ha avuto verso le città dell'olio, noi abbiamo messo in campo un'iniziativa forte di sensibilizzazione dei nostri territori e dei nostri comuni perché iniziassero un percorso che li portasse al riconoscimento nel registro dei paesaggi rurali storici. Devo dire con grande soddisfazione che è stato un lavoro intenso che ha portato ben 45 precandidature, 16 delle quali sono state ammesse alla presentazione del dossier ufficiale e 6 di queste hanno ottenuto il riconoscimento dei paesaggi rurali storici. Io ci tenevo anche a citarli, le ho appuntate per non dimenticare nessuno, gli olivi terrazzati di Valle Corsa, Lazio, la fascia Bedomantane Assisi Spoleto di Perugia, Umpria, Parco Regionale Storico Agrico delle Olivi di Venafro, Molise, il paesaggio policulturale di Trequanta, Siena, Toscana, il paesaggio policulturale di Fibbianello, Toscana, il paesaggio collinare policulturale di Pienza e Montepulciano in Toscana. Il paesaggio rurale sicuramente, in particolare i nostri oliveti, rappresentano una componente essenziale dell'identità culturale prima ancora che economica dei nostri territori. In un contesto di globalizzazione la valorizzazione del paesaggio, dell'ambiente naturalistico, considerata nella loro avarenza storico e civile, sia nelle loro potenzialità, nella loro dimensione, nelle potenzialità economiche e sociale, rappresenta un'azione necessaria per superare quei fattori di crisi e per promuovere lo sviluppo diffuso di un turismo di qualità altamente competitivo, fattore essenziale della attrazione di crescita, com'è il turismo dell'olio, un turismo sul quale noi siamo fortemente impegnati e lo siamo stati innanzitutto nel sostegno all'approvazione della legge nazionale. Finalmente a gennaio 2020 la legge nazionale sull'olioturismo appare dell'enoturismo in realtà, finalmente a gennaio 2022 sono stati sottoscritti decreti attuativi e noi abbiamo lavorato tantissimo in questa direzione perché ciò avvenisse e quindi finalmente anche l'olioturismo al pari dell'enoturismo rappresenta una straordinaria opportunità perché pone l'olio al centro di un palcoscenico straordinario che è il turismo olio-enogastronomico che è un asset fondamentale del Made in Italy e una straordinaria opportunità di valorizzazione dei luoghi e dei nostri territori e di fatti noi abbiamo focalizzato molte attenzioni in questi tre anni dopo l'approvazione della legge innanzitutto nel coinvolgimento dei nostri territori ma anche nel rapporto con le regioni perché fatta la legge nazionale c'è necessità poi sui livelli regionali e quindi che le regioni mettano in campo tutte le iniziative anche di carattere legislativo per cogliere questa opportunità e per rendere un'opportunità concreta per tutti i nostri territori. Per noi chiaramente il turismo dell'olio innanzitutto è una grande opportunità per dare valore al prodotto olio extravergine di oliva noi dobbiamo essere in grado di promuovere l'olio extravergine di oliva in quanto alimento nutraceutico ma dobbiamo essere in grado di raccontare ciò che l'olio interpreta ciò che l'olio rappresenta in termini di valore in termini di paesaggio di ambiente di storia di cultura questa civiltà olivicola che ci caratterizza da oltre 2000 anni è la biodiversità olivicola un unicum a livello globale oltre 600 cultivar in italia rappresentano un patrimonio di inestimabile valore che noi dobbiamo salvaguardare che noi dobbiamo valorizzare ma ovviamente per le città dell'olio il turismo dell'olio è un'occasione concreta per dare valore ai territori noi rappresentiamo tanti piccoli comuni anche in realtà importanti ma tanti piccoli comuni ubicati in aree interne dove l'abbandono non solo paradossalmente culturale ma anche urbano perché ovviamente l'economia non ce la fa a tenere le persone in un determinato territorio allora per noi l'olio turismo può essere un'occasione per valorizzare i territori perché noi non vogliamo rassegnarci all'idea di città dell'olio come luoghi svuotati di funzioni di vita perché poi viviamo un fenomeno drammatico che è quello dell'abbandono olivicolo oltre il 30 per cento del patrimonio olivicolo italiano è abbandonato si parte da un 30 per cento della toscana fino ad arrivare a un 60 per cento in liguria e parliamo di un fenomeno che è drammatico perché significa perdita di un patrimonio di inestimabile valore unico ed irripetibile che è il paesaggio olivicolo e guardate non è solo una questione estetica o turistica nel senso più deteriore del del termine noi non vogliamo le città dell'olio dicevo prima con luoghi svuotati di funzioni di vita ma noi vogliamo delle città vive dove il centro dialoghi con la campagna dove l'opera d'arte la processione del santo padrone riti enogastronomici frantoi le oleoteche i musei siano facce della stessa medaglia ecco dobbiamo difendere il patrimonio olivicolo dobbiamo difendere i nostri territori lontani dagli outlet dalle multisale dai fast food dobbiamo difendere l'olio extravergine di oliva e dargli valore economico e allora è necessario mettere in campo un'azione forte di contrasto a quel fenomeno drammatico che è l'abbandono olivicolo noi abbiamo proposto al governo un piano nazionale di recupero degli oliveti abbandonati è necessario farlo è necessario sfruttare in maniera trasversale i fondi del pnr i fondi dell'agricoltura sociale dell'olivicoltura sociale bisogna mettere in campo iniziative concrete di contrasto all'abbandono magari anche coinvolgendo i comuni per un censimento di territori olivicoli abbandonati per mettere in campo cooperative di comunità fondazioni agricole ecco per creare opportunità concrete perché si contrasti questo fenomeno che è drammatico e noi come città dell'olio ovviamente siamo partiti sono stato chiamato anche a parlare dell'olio turismo perché è un'esperienza rispetto alla quale possiamo raccontare già tante iniziative sul territorio che coinvolgono tutte le città dell'olio qualche settimana fa si è celebrata in 163 città dell'olio italiane nella stessa giornata la terza settimana terza domenica di ottobre la camminata tra gli olivi un'esperienza unica che ha come obiettivo quella di far di portare le persone a riscoprire il patrimonio olivicolo il paesaggio olivicolo soprattutto quando partiamo da paesaggi storici hanno questa valenza storica come paesaggi ecco che consideriamo all'interno del registro dei paesaggi rurali storici così come la merenda negli oliveta ma ci tengo particolarmente a citare un'esperienza che oggi mette in evidenza quando l'olio turismo possa essere un'opportunità concreta di valorizzazione dei nostri territori e che è il concorso nazionale sul turismo dell'olio che è giunto alla terza edizione noi in questo momento abbiamo censito 300 best practices di olio turismo su tutto il territorio nazionale per noi chiaramente l'olio turismo non significa la bruschetta l'olio sulla bruschetta e basta per noi turismo dell'olio significa turismo di comunità bisogna coinvolgere tutta la filiera produttiva tutta la filiera dall'accoglienza e il ruolo delle amministrazioni locali cari sindaci vedo diversi sindaci amici presenti vedo anche il sindaco di polla la sidola da balfa il presidente del parco del verafogo bisogna creare l'opportunità attraverso l'olio turismo per rendere protagoniste le nostre le nostre città e queste esperienze dicevo prima turismo di comunità con il ruolo centrale delle amministrazioni locali che devono essere in grado di mettere in capo iniziative concrete di marketing territoriali ma anche di aggregare questa offerta di olio turismo che arriva sul territorio noi nel nostro concorso abbiamo coinvolto non solo le aziende olivicole e i frantui ma anche gli hotel, i bnb, i tour per retro, le agenzie viaggi, i musei, le tecche, i ristoranti e qui diventa fondamentale il lavoro sulla carta degli oli che stiamo facendo e che abbiamo realizzato in accordo con l'Union Camera nazionale e con il premio Ercole Olivario perché bisogna far riconoscere ai tanti consumatori un'attività di conoscenza, di formazione, di divulgazione di questa cultura il plus di valore che è l'Olex Avere Gito Oliva perché tutti possono essere nelle condizioni di riconoscere questo valore e di pagare lo giusto prezzo il prezzo che diventi remunerativo per lo sforzo di quelli che io definisco eroi che sono i nostri olivicoltori che oltre a promuovere e a proporre ogni giorno un prodotto straordinario ed unico promuovono un patrimonio unico ed irripetibile e salvaguardano un patrimonio ambientale e paesaggistico immenso e noi come città dell'olio stiamo mettendo in campo anche un'iniziativa che è il marchio delle città dell'olio perché abbiamo come obiettivo creare le comunità dell'olio il marchio delle città dell'olio è un'iniziativa di marketing territoriale destinatari del marchio delle città dell'olio ovviamente saranno tutte le città dell'olio che sottoscriveranno la carta della sostenibilità e del benessere e il marchio potrà essere poi declinato su tutte quelle realtà produttive siano essere rappresentative della filiera produttiva dell'accoglienza che ovviamente condivideranno con noi una visione di sviluppo sostenibile dei territori e che si impegneranno a mettere in campo azioni concrete per valorizzare l'olio e il patrimonio olivico nella sua valenza sociale, economica, ambientale, paesaggistica e turistica potrei raccontare tanto ancora delle città dell'olio ma devo dire che noi siamo orgogliosi del lavoro che stiamo facendo e soprattutto siamo orgogliosissimi dell'opportunità di creare anche attraverso queste iniziative sinergie positive che ci sono già sul territorio nazionale perché siamo tutti dalla stessa parte stiamo lavorando tutti assieme per salvaguardare questo patrimonio immenso per salvaguardare un alimento che è nutraceutico un vero e proprio farmaco come oramai lo definisce la Food and Drug Administration ma io penso che attorno a questo prodotto, attorno al patrimonio olivicolo noi salviamo le città se vogliamo mantenere vive le città dell'olio noi dobbiamo creare occasioni attorno a questa cultura straordinaria a questa civiltà millenaria di sviluppo sostenibile dei nostri territori io penso che tutti assieme possiamo fare un grande lavoro noi come città dell'olio chiaramente ci siamo siamo pronti a mettere anche la nostra esperienza a disposizione perché penso che possiamo scrivere una pagina nuova ancora più bella soprattutto per le future generazioni quindi io concluderei dicendo viva i paesaggi rurari, viva le città dell'olio e viva l'olio ex energy di oliva di qualità grazie a tutti e buon lavoro grazie mille a Michele Sonnessa grazie per averci illustrato e aver promosso oggi qui e raccontato quelle che sono le iniziative le progettualità che questa associazione porta avanti da tanti anni devo dire e per quello che sta facendo e farà in futuro con particolare riferimento mi sento di dire una cosa veramente importante che diciamo diverrà presto in realtà è quella di un piano nazionale sull'abbandono olivicolo una battaglia a questa politica veramente importante che speriamo riusciremo a diciamo ad ottenere ecco turismo dell'olio abbiamo sentito l'esperienza del concorso nazionale ci sono tante altre progettualità olio in cattedra sulla formazione l'associazione veramente mette in campo tantissime iniziative veramente valide proprio per far sì che questi territori vengano valorizzati ma soprattutto tutelati allora dall'olivicoltura però mi dicono che c'è una piccola integrazione sull'appello 1 da parte di Maria Filomena Magli che causa diciamo imprevisti tecnici non è riuscita a presentare prima quindi Mariflo in pochi minuti prego qualche minuto infatti avete visto prima la mia costernazione quando grazie per l'attenzione allora mi riferisco un attimo alle ultime parole del turismo dell'olio salvare le città dell'olio ma prima di salvare le città dell'olio dobbiamo salvare i paesaggi dell'olio per cui tornando un attimo a favorire la produzione di olio extravergine di oliva di elevata qualità derivato da olivi secolari per quanto riguarda la regione Puglia noi abbiamo una legge regionale del 4 giugno del 2007 olio extravergine degli olivi secolari di Puglia che è una menzione molto importante da poter mettere sulla produzione di questi di questo olivo poi strutturare un'offerta turistica nuova legata al paesaggio all'agricoltura alla natura all'enogastronomia e consolidare quindi il turismo dell'olio con le città dell'olio cosa che nella nostra zona si fa nella zona proprio della della piana tra Fasano e Ostuni in tutta quella zona e poi la realizzazione appunto di questo di percorsi tematici quindi qua va insieme agricoltura ambiente e turismo sono delle cose che non possono andare da sole e poi l'ultimo e non per ultimo la problematica e quindi divulgare ed estendere interventi di contrasto sostenibile all'axilella fastidiosa sappiamo benissimo che per fortuna è ancora legata soltanto in alcuna parte della Puglia ma dobbiamo fare in modo che si adottino protocolli validati dalla ricerca scientifica evitando la pratica deturpante non comprovata scientificamente degli innesti e rimpianti con cultiva resistenti perché abbiamo visto che non funzionano poi tanto per cui dobbiamo cercare in tutti i modi di salvare con tornando all'agricoltura che si è sempre fatto ecco perché continuiamo a dire pesaggi storici rurali e quindi continuare su quello che facevano i nostri nonni logicamente aiutati dalla scienza grazie questo era un appello che volevo fare perché salvando i nostri livi in Puglia noi salviamo tutto il patrimonio livitico italiano grazie mille grazie mille Maria Filomena Magli per aver acceso i riflettori anche su questa problematica che diciamo ovviamente riguarda in particolare la Puglia ma diciamo una problematica come dire che non si può trascurare a questo punto abbiamo fatto uno switch di programma perché abbiamo qui adesso il sindaco Ripollica quindi prima di passare all'appello sulla viticoltura chiederei al sindaco i pisani gentilmente di raggiungerci qui e di parlarci di città slow dieta mediterranea quindi dopo il racconto sull'elemento principe della dieta mediterranea perché è l'olio d'oliva parliamo di comunità emblematiche io cerco innanzitutto buonasera mi perdonerete se vi rubo dello spazio però vi giuro cercherò di essere veramente molto molto breve però mi stava molto a cuore essere qui oggi uno per salutare tutti voi ma per ringraziare il mio amico Daniele Milano con il quale mi ha ricordato che cinque anni fa quest'ora eravamo dalle parti di Pollica e ho ricambiato la visia no assolutamente non solo per quello perché con Daniele e con tanti altri sindaci stiamo cercando di costruire iniziative utili e soprattutto in grado di avere una forza adeguata per poter cambiare le cose quindi quando Daniele insieme all'associazione dei passaggi rurali storici mi ha invitato ho detto vengo volentieri vengo volentieri non solo come coordinatore italiano delle città slow non solo come segretario come segretariato internazionale della dieta mediterranea ma anche come coordinatore dei piccoli comuni di Anci Campania voi ovviamente è stato affrontando almeno da quello che ho sentito fino adesso le questioni connesse a specificità io però quando sono entrato non ho l'abitudine di preparare un discorso preciso quindi abbiate pazienza ho riflettuto ma alla fine noi dobbiamo salvaguardare i paesaggi storici io ho pensato lo possiamo fare in un modo li mettiamo sotto una cappa di vetro li teniamo lì fermi oppure li puntelliamo forse non è quello il modo più giusto veniamo insieme con la dottoressa da un recente incontro a Roma alla Camera dei Deputati insieme anche al Presidente delle Città dell'Olio Antonio Valenzano dove abbiamo ragionato di living heritage patrimoni viventi in fondo i paesaggi sono il frutto dell'opera accurata e attenta dell'uomo probabilmente la tutela che noi dobbiamo cercare di esprimere di mettere in campo non è prettamente connessa alla salvaguardia dell'elemento fisico ma al passaggio intergenerazionale della capacità di tutelare di salvaguardare quel paesaggio e su questo poi vengono fuori una serie di elementi di grande importanza e rilevanza l'Istat ci dice che al 2050 la nostra piramide demografica non è più una piramide ma è fortemente schiacciata verso l'alto con una una quantità di persone che si avviano alla longevità all'extralongevità ai centenari elevatissima e la parte iniziale della piramide la base è strettissima quelli sono i giovani dobbiamo secondo me cominciare ad immaginare modalità utili per trasmettere quel sapere di tutelare il paesaggio di utilizzare quel paesaggio senza perdere i tratti distintivi culturali tradizionali una delle cose belle dell'incontro di oggi è il regalo la ceramica che Daniele e chi ha organizzato e l'associazione ci ha dato come relatori sopra c'è un asinello quello è il segno del tempo che passa ma è anche il segno dell'approccio faticosissimo che c'è su alcuni paesaggi noi dalla nostra abbiamo un altro elemento la modernità le tecnologie poi arrivo a conclusione rapidamente il paesaggio non è qualcosa di avulso dal resto della nostra vita ma è fortemente connesso alle nostre attività se vogliamo realmente salvaguardare il paesaggio non basta istituire un registro non basta mettere su dei marchi presidente di sfido anziché creare un nuovo marchio per le città dell'olio che è rivolta all'elemento della sostenibilità ti invito invece a strutturare una collaborazione con le città slo che hanno il modello della sostenibilità ecosistemica come modello centrale lavoriamo insieme a questo dicevo non basta istituire un registro per la tutela bisogna cominciare a mettere insieme delle iniziative chi è intervenuto all'inizio quando sono arrivato diceva dobbiamo rendere remunerativa la possibilità di coltivare dobbiamo garantire all'agricoltore di avere un buon ritorno rispetto alla sua attività agricola altrimenti non ci sarà più nessuno disponibile a coltivare dobbiamo necessariamente cercare di valorizzare il paesaggio il prodotto e quindi personalmente da rappresentante di ANCI prima perché vi sto per dire che secondo me è necessario introdurre una nuova azione normativa ma secondo voi è normale che nel PSR cioè il programma di sviluppo rurale le piccole aziende vengono costantemente penalizzate perché non hanno un'adeguata scusatemi il paesaggio chi ve lo fa? il paesaggio chi ve lo fa? ve lo fa l'agricoltore che coltiva il limoneto l'oliveto in un posto incredibilmente impossibile o chi riesce a mettere su ettari di serre non ce l'ho contro quelli noi dobbiamo pur mangiare sappiamo questa cosa è chiarissima ma vogliamo dare la possibilità di avere a meno a disposizione le stesse possibilità di accesso al supporto e quindi secondo me lo sforzo collettivo e spero che tutti vogliano contribuire in questa direzione è modificare questo approccio da parte del governo nazionale dell'unione europea perché parte ci discende dall'unione europea che però per esempio ritaglia la normativa agricola non sull'Italia ma su altri paesi che fanno un altro tipo di produzione sulla Spagna allora lo sforzo congiunto deve essere ed è questo quello che cercheremo di fare mettere insieme Daniele adesso faccio gli auguri anche a Daniele pubblicamente è stato delegato come rappresentante di Anci Campania al settore turistico proviamo a mettere insieme a cucire una proposta normativa che formi le nuove generazioni noi dobbiamo fare in modo che i nostri giovani per quanti pochi siano raccolgano quell'opportunità di dare nuovamente vita ai terreni abbandonati delle aree marginali e quindi li dobbiamo formare non solo li dobbiamo avviare non solo a prendere la laurea alla Bocconi ne dico una può essere la Luiz qualsiasi la Federico II che quest'anno compie 800 anni ma a fare in modo che quella laurea sia utile a valorizzare le risorse dei territori l'altro pezzo importante è scusate quante persone pensate possano ancora lavorare a 80 anni io ho una fortuna ho un papà di 82 anni con il quale ho condiviso nell'ultima campagna olearia una bellissima una bellissima sfida raccogliere le olive mi sono preso un fine settimana solo uno purtroppo e sono andato a raccogliere le olive con lui io non ne ho il tempo vogliamo capire come integriamo oltre alle cooperative di comunità i flussi migratori e c'è una parte di Mediterraneo che ha bisogno di essere accolta integrata a cui possiamo in qualche modo trasferire le nostre esperienze competenze conoscenze e dobbiamo fare in modo che i paesaggi siano un altro elemento sul quale lavorare completo dicendo probabilmente può essere utile farli diventare luoghi turistici luoghi utili per fare un'economia diversa da quella produttiva ma innanzitutto dobbiamo avere come obiettivo principale quello di cominciare a recuperare con strumenti anche di pianificazione territoriale e chiudo il mio intervento i paesaggi abbandonati e ve lo dico con un esempio il mio comune Pollica che è comune patria della dieta mediterranea io scapperò prestissimo dall'incontro di oggi semplicemente perché in concomitanza abbiamo i festeggiamenti per il riconoscimento unesco della dieta mediterranea come patrimonio culturale e materiale dell'umanità sono 13 anni ma non sapete cosa abbiamo fatto abbiamo preso abbiamo preso il nostro patrimonio vivente la dieta mediterranea e l'abbiamo messo nel piano urbanistico perché abbiamo fatto questo perché negli ultimi 50 anni il comune di Pollica ha perso il 50% della superficie coltivata e quando vengono i turisti da me non tanti come quelli che vengono da Amalfi ma abbastanza mi dicono sindaco avete un posto bellissimo pieno di macchia mediterranea assolutamente incredibile guardate è bellissimo il posto ci abbiamo messo poco a mano e siamo contenti ma molta di quella fascia mediterranea che voi vedete prima erano oliveti ficheti ed erano frutto dell'ingegno dell'uomo che era strumento di salvaguardia di quel territorio rispetto al dissesto idrogeologico rispetto all'abbandono produttivo e quant'altro quindi anche i comuni possono fare una grande parte e la tutela del paesaggio la devono scrivere all'interno degli strumenti urbanistici e soprattutto chi valuta i nostri strumenti urbanistici deve comprendere che il paesaggio è il valore quando ci hanno valutato il nostro piano urbanistico in provincia ci hanno detto avete fatto un lavoro incredibile sul paesaggio per la tutela per la salvaguardia e la valorizzazione ma non ci avete messo i corridoi ecologici quindi non vi possiamo dare parere favoribili fateci i corridoi ecologici non ci interessa il paesaggio insomma quindi penso che abbiamo un po' da lavorare ma vedo che la buona volontà ce n'è tanta ringrazio tutti e scusatemi ancora per essermi intromesso nel programma pomediriano grazie mille grazie mille al sindaco di Pollica nonché delegato Anci anche oggi rappresenta anche Anci oltre che coordinatore nazionale di Città's Law grazie per gli interessanti spunti soprattutto diciamo riferiti anche alla necessità di intervenire a livello di formazione credo un tema molto importante nonché di pianificazione governance diciamo proprio per andare a incidere a livello appunto di tutela ripristino recupero dell'agricoltura storica a questo punto passiamo dall'olio al vino e do la parola ad Elvira Bortromiol per il secondo appello dal titolo vivere far sopravvivere la viticoltura storica ed eroica storie di straordinaria quotidianità abbiamo una presentazione Elvira è presidente del consorzio tutela del vino Conegliano Valdobbiatene Prosecco di OCG prego Elvira bene grazie grazie a tutti io ringrazio ovviamente la presidente Patrizia Lusi ma anche il sindaco di Amalfi per aver dato vita a questo momento di riflessione importante che poi sarà sicuramente punto di riferimento per il nostro lavoro futuro su tutti i paesaggi storici italiani io diciamo porto la voce un po' dei paesaggi storici viticoli che fanno parte del Pris e che appunto hanno voluto diciamo coordinarci con noi con il Conegliano Valdobbiatene per esporre un po' quelle che sono le problematiche e le minacce dei nostri paesaggi viticoli no se appello due viticoltura grazie mille scusate della piccola messa a punto delle slides partiamo con qualche immagine dei nostri paesaggi viticoli e in particolare al centro si vede il Conegliano Valdobbiatene e la viticoltura eroica e la viticoltura eroica di come appunto la vendemmia si deve fare in pendenze veramente importanti il paesaggio della di Pantelleria ed anche quello della Sardegna ecco noi sappiamo che la viticoltura e i nazionali sono legate ai paesaggi storici e stanno sempre più assumendo i contorni di beni culturali beni culturali che sono stati portati appunto fino ad oggi con la perseveranza dei nostri viticoltori con la passione con le capacità che nell'ambito degli aspetti più artigianali sono riusciti a portare fino ad oggi infatti sono lontane radici tradizioni viticola enologica la bellezza dei paesaggi i vitigni autotonoci il lavoro manuale come dicevo sono tutte caratteristiche che hanno permesso alla nostra viticoltura e particolare aree italiane come quella adesso nostra del Conegliano Valdobbiatene sono particolari colline come dicevo molto scoscese e molto difficili da coltivare ma che sono arrivate ad oggi sono arrivate attraverso questi viticoltori che hanno saputo mantenerle quindi hanno saputo mantenere appunto caratteristici di unicità di identità derivanti dai climi dai suoli dalle morfologie che non si possono ripetere altrove infatti questo documento l'abbiamo elaborato assieme anche al nostro direttore Diego Tomasi e noi diciamo sempre c'è un vino eccellente arriva sicuramente sempre da un fortunato incontro tra il vitigno e il suo territorio e il suo terroir ma sappiamo che queste aree hanno sempre parlato di sostenibilità anche quando sostenibilità non era una parola così diciamo usata e così attuale infatti questi viticoltori hanno sempre diciamo lavorato sul risparmio e riuso di materiali quasi sempre locali con forme di allevamento adattate ai climi e ai suoli con una strategia per la raccolta e la conservazione dell'acqua irrigua infatti vedremo poi che una delle minacce che noi abbiamo è proprio il cambiamento climatico con un'attenzione al mantenimento della fertilità del suolo manufatti locali e poi vitigni selezionati proprio per specifici ambienti oggi però i patrimoni nazionali questi patrimoni di paesaggi viticoli sono sempre più messi in pericolo da il cambiamento climatico come dicevo una costante crescita dei costi di produzione una mancanza di manonopera e la scarsa propensione del consumatore poi a pagare i rischi di impresa altrui quindi i fattori più preoccupanti se li andiamo a analizzare come dicevo sono i cambiamenti e quindi anche i fenomeni estremi meteorologici come troppa acqua o troppo poca noi abbiamo vissuto quest'estate una situazione molto difficile dovuta prima alla secità e poi alla quantità di acqua esagerata poi per la maturazione delle uve spesso appunto ci troviamo di fronte a questa situazione o appure alla mancanza di rifornimento idrico che quindi deve essere provveduto deve essere diciamo colmato attraverso la costituzione per esempio di microinvasi di nuovi poi porta innesti che rendano più diciamo forte il vitigno nuovi sistemi di microirrigazione una maggiore equilibrio con la pianta quindi qui si tratta poi di come noi trattiamo con i prodotti di fitofarmaci e poi l'aumento della sostanza organica dei suoli ci viene chiesto appunto in questi territori viticoli così parte del nostro patrimonio soprattutto quelli poi tra l'altro che hanno ricevuto un riconoscimento unesco come noi come Pantelledea come altri dove appunto è necessario assolutamente utilizzare degli strumenti che regolino appunto l'equilibrio con l'ambiente e quindi da tenere presente che le imprese sono già impegnate nell'uso di modelli previsionali di difesa sanitaria lavoriamo con per esempio dei protocolli sostenibili dei protocolli dove si entra nel vigneto con un sistema agronomico e di controllo molto molto importante e poi ancora aspetti agronomici come ad esempio la gestione della sottofila e poi trovare forme di giusto equilibrio con gli ecodiserbanti sono tutti aspetti che per esempio nell'ambito di territorio unesco bisogna assolutamente tenere presente ma i costi di produzione appunto sono sempre più alti quindi mantenere questi vigneti e questa viticoltura ha bisogno di sempre più capacità da parte dei viticoltori e degli imprenditori appunto di investire quindi tra l'altro poi come dicevamo anche questa mattina la continua riduzione delle superfici evitate perché appunto condizioni estremo all'abbandono sono fattori che quindi impediscono poi un'evoluzione uno sviluppo e portano poi a maggiori minori investimenti quindi cosa fare con queste minacce bisogna dare un maggiore valore al vino affinché si riesca a compensare tutti i costi richiesti sono necessarie tecniche di viticoltura di precisione adeguate alle specifiche realtà territoriali ad esempio ci sono condizioni estreme anche meteoriche oppure condizioni estreme di superfici molto scoscese tutte queste devono essere tenute in conto e poi ovviamente l'attivazione dei decreti attuativi indicati nella legge 238 2016 tutte queste minacce però potrebbero essere diciamo legate a una evoluzione e una sopravvivenza diciamo attiva e positiva dei paesaggi storici viticoli attraverso alcuni di questi aspetti il vino perché è un comunicatore importante per riuscire poi a posizionarlo sul mercato a prezzi che rendono poi la viticoltura sostenibile l'enogastronomia che abbina molto bene l'esaltazione del vino e delle sue caratteristiche il paesaggio che come abbiamo detto porta sicuramente una maggiore qualità e una maggiore percezione della qualità del vino le attività outdoor tutto quello che si può fare nel vigneto e la cultura la tradizione di quel posto tutto questo si riassume con una parola che è turismo ed ecco qui che il turismo diventa appunto uno degli aspetti importanti per riuscire a mantenere e a gestire al meglio le nostre aree patrimonio le diverse infatti finalità turistiche occupano stabilmente una posizione importante nelle mete turistiche sempre più si fanno attrattrici di chi crea nuove esperienze legate appunto al territorio il vigneto non è più un luogo dove si pratica un'attività agricola ma diventa una meta in grado di soddisfare il godere della bellezza dei paesaggi il piacere di stare all'aperto in luoghi salubri la ricerca della tradizione e delle unicità del nostro paese quindi unire i paesaggi e viticoli con le forme più raffinate di turismo sostenibile sicuramente porterà a diversi e nuovi benefici i benefici potrebbero essere appunto nella nuova occupazione sempre di più nel turismo lo sappiamo anche nei nostri territori nelle nostre cantine sono sempre più attivi gli hospitality manager e tutto quello che riguarda appunto l'ospitalità legata al turismo slow la destagionalizzazione delle presenze dei turisti perché appunto in questo caso in vigneto si può andare tutto l'anno la valorizzazione del settore no gastronomico come dicevo prima perché l'abbinamento vino cibo è importantissimo anche per capire le caratteristiche culinarie di quel luogo un giusto riconoscimento del valore del vino e su questo lavoriamo sempre tantissimo il futuro e i luoghi viticoli estremi quindi consolidare il volano del turismo con una governance del territorio è sicuramente uno degli aspetti chiave per rendere diciamo così il futuro e dare il futuro ai patrimoni viticoli sicuramente i nuovi comportamenti di consumo del vino la relazione con l'ambiente e il territorio saranno appunto delle sinergie chiave che dovranno essere messe in atto sulla base dell'evoluzione del nostro turismo in effetti quindi riassumendo non esiste una soluzione diciamo unica ma è necessario mantenere il dibattito vivo su tutti questi fronti il fare rete e l'intervento governativo potranno decidere se al viticoltore di oggi e del domani sarà data la possibilità di rimanere nel suo vigneto fare rete oggi sicuramente sarà un'importante valore che se metteremo in atto porterà sicuramente a nuovi obiettivi e anche nuove soluzioni oggi qui stiamo sperimentando una rete attraverso non solo i paesaggi viticoli ma anche quelli olivicoli eccetera e questo sicuramente porterà a redigere poi un documento noi sicuramente del settore viticolo lo faremo un documento che uscirà oggi magari proprio da questo forum per riuscire poi a presentare al ministero alle regioni ai nostri sindaci il programma che vorremmo mettere in atto e che potrebbe essere finanziato ricapitolando quindi i punti di forza saranno la qualità la storia la bellezza del paesaggio la salubrità dei luoghi l'unicità e la biodiversità come sappiamo e settori sui quali noi dovremmo lavorare moltissimo anche in vista di quello che sarà il nostro futuro il clima i costi assolutamente per reggere questa viticoltura la manodopera che sempre più ci manca e che dovrebbe essere poi diciamo così rimpiazzata anche da una nuova generazione la scarsa propensione del consumatore a farsi carico dei costi ma qui bisogna raccontare bisogna essere sempre più capaci di raccontare il nostro territorio e come dicevo un ricambio generazionale che quindi deve essere messo in atto con attrattiva con capacità di tenere i giovani sul territorio il greenwashing è quello di cui si parla spesso cioè non parlare di cose diciamo non concrete ma l'aspetto della sostenibilità del green del biologico di tutto quello che riguarda l'assolubilità sono aspetti che devono essere concreti e portati con dei dati le soluzioni quindi come abbiamo detto potrebbero essere legate all'enoturismo il fare rete come dicevo e ripeto interventi governativi la diversificazione del prodotto essere sempre più complessi anche e più diciamo capaci di esprimere le complessità e le caratteristiche dei nostri terroir e poi un'accessibilità al nostro territorio molto più facile abbiamo riportato qui alcuni dei nostri paesaggi viticoli che hanno fatto parte di questo progetto che sono le colline terrazzate della Valpolicella per ognuno di questi poi tra l'altro sarebbe bello poter raccontare un po' delle caratteristiche più importanti ma io credo che poi lo faremo proprio in questo documento dove andremo ad affermare quali sono i punti di forza e di debolezza magari di ogni singolo paesaggio in modo tale che poi avremo coscienza e potremo l'un l'altro poi scambiarci anche quelle che potrebbero essere le soluzioni il paesaggio rurale storico di Lamole le colline evitate delle soave le colline del collegiano valdobbiade nel paesaggio del prosecco superiore il paesaggio di pietra secca dell'isola di Pantelleria i limoneti i vigneti i boschi nel territorio del comune di Amalfi i vigneti terrazzati della valle di Cembra i vigneti terrazzati del versante retico della Valtellina il paesaggio policulturale di Mandroli scusate di Mandro Lisai i vigneti di Alzara e Sorgono ecco Sorgono scusate verrò in Sardegna grazie mille grazie per l'attenzione e alla prossima grazie mille Elvira Elvira Bortolomiol per aver messo ancora una volta in evidenza diciamo così quelle che sono a tutti gli effetti delle minacce trasversali poi alla fine a tutte le nostre categorie di paesaggio perché parliamo in particolar modo di mancanza di manodopera specializzata di cambiamenti climatici della minaccia a cambiamenti climatici del basso mancato reddito per i viticoltori in questo caso del mancato ricambio generazionale che comunque sono tutte minacce tematiche diciamo così problematiche che legano trasversalmente un po' tutti i paesaggi mi sento di dire quindi non solo ovviamente la viticoltura ma anche le altre categorie di paesaggi eroali storici opportunità abbiamo sentito l'opportunità turismo che è stata citata anche poc'anzi per la categoria olivicoltura ma molto importante la come dire l'opportunità della rete noi siamo qui oggi una rete ne ho costituita quella dell'associazione dei paesaggi erali storici e credo che questo veramente far rete rappresenti a tutti gli effetti un valore aggiunto anche per promuovere scambi come dire proposte e lavorare uniti per un obiettivo comune allora dalla viticoltura passiamo o meglio continuiamo con la viticoltura ma con un'esperienza ulteriore diciamo a conferma appunto di quello che è possibile fare per incidere positivamente sul tema abbiamo AIS qui presente oggi con Camillo Privitera sì prego si accomodi torna qui con con Privitera il tema della formazione che è stato citato poco anzi dal sindaco di Pollica assolutamente importante educazione e formazione per far sì che il consumatore finale nonché poi anche gli esperti di settore alla fine come dire siano ecco formati educati a conoscere il prodotto che è poi intrinsecamente e strettamente legato ai territori prego dottor Privitera cerco il mio la presentazione grazie a tutti Grazie. 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 Quando mi sono poi spostato sull'Etna, il territorio vitivinico, l'Etneo, nella zona dove sono io, molto pietroso, molto sassoso, veramente difficile, qui ho sentito situazioni eroiche di viticoltura e non solo, di agricoltura e non solo, ecco, un po' più di trent'anni fa la situazione era questa, se prendevi un pezzo di terra e ti pagavi il notaio, quel pezzo di terra te lo regalavano. Oggi, in alcune contrade dell'Etna, un ettaro di vigna vale circa dai 250 mila euro. Questo per dire cosa? Due cose fondamentali. La prima, che è importante fare qualcosa che purtroppo nell'agenda, non dico dell'aggiornato delle giornate, ma purtroppo nell'agenda del Paese Italia, la formazione è qualcosa che viene sempre in qualche maniera accantonata, non presa nella giusta considerazione. La seconda è che, signori, i riconoscimenti, il lavoro che si fa sul paesaggio, sul territorio è importante, perché oggi, dalle mie parti, su quel versante dell'Etna, e non solo, ormai su tutti i versanti dove c'è un'agricoltura importante di qualità, badate, non si parla più solo di agricoltura di qualità, di prodotto di qualità, ma si parla di territorio, perché il pistacchio è di bronte, perché le fragole sono di maletto, perché il vino è dell'Etna. E di conseguenza questo ha portato a quello che diceva già la dottoressa Portolomiol prima, prodotti di qualità, ma soprattutto un incremento di presenze turistiche che supporta enormemente, soprattutto le piccole aziende, per quello che riguarda l'aspetto dell'enoturismo. Su cui poi bisognerà fare anche qualche piccolo dettaglio, perché abbiamo sentito stamattina prima l'intervento, devo dire, molto importante, molto accalorato del nostro amico Aceto, con tutte le problematiche che comportava. Però mi tocca ai voi fare un po', dire qualcosa un po' chi rappresento io oggi qui. Oggi rappresento un'associazione che in Italia a fine anno farà qualcosa come circa 47.000-48.000 soci. Nata nel 65, vedete, insomma, abbiamo accompagnato un po' tutto il percorso che ha visto l'evoluzione del vino, ma oggi parleremo di vino semplicemente per brevità, perché vogliamo parlare di cultura del vino, di cultura del vino e del territorio. E lo facciamo attraverso tutta una serie di attività, di cui la più importante, il card, il pilastro fondamentale è chiaramente la formazione. Perché facevo quell'appello alla formazione? Perché l'Italia, caso strano, in questa penisoletta piccola, dove all'interno abbiamo le più importanti biodiversità, differenziazione di prodotti tipici, tutto quello che il padre Derno ha voluto mettere in un pezzettino di terra piccola, la stragrande maggioranza l'ha concentrato in questa piccola penisola. Guarda caso, nell'istruzione di base, e penso per esempio agli istituti alberghieri, agli istituti agrari, agli istituti, oggi aggiungo anche umanistici, perché parliamo di cultura, agli istituti umanistici si fa poco cenno a quello che è, insomma, le parole d'ordine che spesso ormai da un po' di tempo fortunatamente ci ripetiamo. Parliamo di qualità, ormai qualcuno, forse anche ha ragione, non ne può più di sentire sostenibilità, perché se non riempiamo di contenuti di significanza queste parole, sostenibilità, vedete, poi ne perdiamo e ne banalizziamo il significato. Oggi, e lo esprimeva bene anche prima la dottoressa Bortolomeo, parleremo anche di bellezza, perché oggi andare in un'area agricola dove si producono prodotti di qualità significa fare una grande esperienza, ma significa anche misurarsi con la bellezza. Infatti non è un caso strano che moltissime aziende oggi non solo producono prodotti di elevata qualità, ma fanno vivere delle esperienze che sono esperienze artistiche a 360 gradi. Però noi dobbiamo anche sapere, badate, che il riconoscimento UNESCO, ed è per questo che poi l'Etna ha fatto il salto di qualità, proprio in virtù del riconoscimento che ha avuto e di conseguenza ci ha consentito, ci ha obbligato, ci ha responsabilizzato verso un ambiente e un territorio. Dove si parla appunto di turismo sostenibile, accessibilità fisica e culturale, perché c'è un bene fisico, c'è un bene materiale, ma forse il bene è uno dei beni maggiori che possiamo esprimere, il bene immateriale, dei luoghi e dei territori, aperti alla valorizzazione turistica. Però anche qui, ripeto, sempre con alcune considerazioni che in qualche maniera poi nell'organizzazione concreta pratica di queste azioni economiche bisogna sempre tenere presente. Vedete, l'organizzazione mondiale del turismo nel 2016 ha definito il turismo divino come componente cruciale del turismo gastronomico, in cui i turisti possono sperimentare cultura, stile di vita, delle destinazioni dove ovviamente arrivano, promuovendo nello stesso tempo lo sviluppo del turismo sostenibile. Cioè non il turismo, ma un turismo che sostanzialmente preservi che cosa? Le culture del territorio, le identità appunto del territorio. E allora vedete, una delle cose su cui chi fa formazione come AIS deve sempre stare attento sul discorso relativamente alle qualità. Qui vedete due paesaggi, una alla cantina e l'altro un bellissimo paesaggio della Valtellina, sull'idea di qualità. Chi dice, ma chiunque di noi mangia qualsiasi cosa è convinto di mangiare bene. Noi lo vediamo tutti. E chi si parlava prima di olio, no? L'olio è un problema grosso, enorme. Perché noi abbiamo un problema oggi che andiamo al supermercato e ci spacciano olio extravergine di oliva e non si capisce esattamente, oggi non sappiamo esattamente com'è che è arrivato ad avere quel prezzo. Perché chi produce olio sa benissimo appunto cosa vuol dire la fatica di produrre e soprattutto pensiamo alle rese. Per esempio pochissimi, si ragiona poco al di fuori degli operatori su quelle che è una pianta poi in resa dal punto di vista dell'olio. Ma tutti ovviamente siamo convinti che c'è un'idea di qualità e che tutti sappiamo riconoscere la qualità. Invece noi da questo punto di vista dobbiamo fare un lavoro, secondo me, di informazione molto importante. Infatti quello che in qualche maniera veniva detto risulta significativo va esattamente in questa direzione. Però dove dobbiamo mettere accenno alla parola qualità anche qui dagli senso, dagli sostanza. E badate, io, permettetemi di, se volete anche di banalizzare questa cosa, io vado in giro a parlare di cibo, di cultura, di vino, faccio un po' il formatore da questo punto di vista. E la domanda più intelligente che mi è stata fatta durante uno di questi incontri di formazione è un signore seduto in platea che durante una degustazione organolettica mi dice Senta, signor Priviterra, lei che parla di sentori che richiamano l'anas, la banana, i sentori tropicali, ma me lo spiega la banana là dentro come ci è andata a finire? Perché poi c'è un meccanismo che va oltre le suggestioni, oltre, se volete, magari l'esibizionismo di qualcuno che sta con un bicchiere a girare e ci trova delle cose a volte quasi esoteriche. In realtà c'è tutto un percorso che va a finire nel lavoro della vigna, nel lavoro del campo, dove in questo percorso noi dobbiamo andare a dire che qualità è tutta una filiera e qui più volte è stata evocata da diversi colleghi che hanno parlato prima, dove la dimensione della qualità non è data solo dalla bontà soggettiva di apprezzare o meno perché altrimenti, signori, chiuderebbe McDonald's, giusto? Ma qualità significa un'azienda sana, in un territorio sano, che porta avanti dei prodotti e dei valori sani perché significa occupazione, sviluppo, sostenibilità, significa, badate, presidio del territorio significa spesso in alcune aree del paese anche mantenimento della legalità e allora noi quando parliamo di qualità dobbiamo renderci conto che comunichiamo questo tipo di valori, questo tipo di situazioni e vedete il cibo è alimento, il cibo è cultura, il cibo è identità viene spesso evocato a ragione l'enoturismo l'enoturismo che è una voce fondamentale ormai di quello che riguarda una piccola parte del PIL italiano ma dobbiamo sapere anche chi va in giro, chi si muove, chi si sposta come wine lover è uno che ha una capacità di spesa molto alta è uno che pretende, che pretende anche che nel luogo, nel territorio che va a visitare, negli aziende che va a visitare quei valori vengono rispettati perché il consumo del cibo, vedete, non è più un atto che permette di soddisfare un bisogno umano cioè noi non mangiamo solo per nutrire il corpo noi ci nutriamo anche di spirito e alla domanda che qualcuno fa, perché in passato è stato paventato che si poteva fare a meno di qualcosa a me quando dicono, guarda che si potrebbe tranquillamente vivere senza bere un bicchiere di vino e dico, è vero, ma si potrebbe vivere anche senza fare tante altre cose adesso non voglio citare qui, però guardate, quando mi fanno una sfermazione del genere rispondo tu faresti a meno di ascoltare della musica, di leggere un buon libro di vedere uno spettacolo, di andare a teatro perché se prendiamo oggi la dimensione che il prodotto enogastronomico ha raggiunto c'è anche questa dimensione qui è vero, possiamo fare a meno di bere vino, ma potremmo fare a meno, ripeto, di tante altre cose ma il vino oggi ha raggiunto quella dimensione che ci consente anche di soddisfare quei piaceri, quei valori, che dà insomma un senso di piacevolezza e di socialità alla nostra esistenza che è quello che ci mette nelle condizioni nelle condizioni insomma di affermare in qualche maniera noi stessi la nostra identità ma se consentite, e voi lo sapete bene come me, forse anche meglio anche di esprimere la nostra socialità è vero che c'è un pericolo il pericolo è della banalizzazione della comunicazione questo lo vediamo attraverso i social, attraverso forme di autoesaltazione di tanti personaggi su cui bisogna in qualche maniera su cui in qualche maniera bisogna bisogna insomma starci attenti anche affinché noi come dire, comunichiamo i giusti messaggi e vedete io, anche lì, quando qualcuno mi chiede ma c'era bisogno di fare l'acino sul patrimonio su un territorio patrimonio dell'UNESCO che sono le Langhe beh dico sì, c'era bisogno adesso poi magari, voi sapete appunto la qualità o il piacere soggettivo per cui qualcuno potrebbe contestare una roba del genere però dico evidentemente l'uomo ha ritenuto e non solo l'uomo ha ritenuto che è un segno dal punto di vista artistico in un territorio importante, storico dove si esprime una grande identità agricola, culturale, vitivinicola dove il vino in quella zona è un vino di forte personalità facilmente riconoscibile forse andava ancora e secondo me hanno fatto anche bene contrassegnato appunto da un simbolo importante come questo ma come tante altre che esistono oggi nel nostro paese e non solo considerate perché in tante realtà del paese molte aziende utilizzano grandi architetti realizzano grandi installazioni in vigna che senso avrebbe dice tanto per fare vino per fare oro basterebbe un capannone no poi alla fine quattro mura quattro pareti e invece no perché appunto oggi quello che si vuole comunicare è altro che basterebbe in qualche maniera stare attenti ad alcuni principi che qui espresse ma sono principi abbastanza come dire abbastanza conosciuti e allora vedete paesaggio del vino combinazione vincente vigneti, cantine con tutto quello che appunto poi in realtà c'è stato attorno attività di supporto per la moderna produzione la quale produce regioni in grado di offrire a residenti e non vedete un ambiente accogliente e una grande esperienza questo oggi molte migliaia di persone che dal punto di vista appunto del del PIL realizzano realizzano una sostenibilità oggi in realtà e non a caso citavo Lettna prima Lettna era uno dei territori in stato di abbandono come dicevo regalavano la terra oggi su Lettna abbiamo un problema che non si trova a mano d'opera qui pensando pensando appunto ma come al sud non sono tutte disoccupate eccola là giusto per dire ma non solo ma sempre tornando al tema della formazione purtroppo quello che manca sono e qui veramente l'appello va poi fatto ai consorzi va fatto alle istituzioni va fatto agli istituti che si occupano di formazione istituti diciamo dagli agrari eccetera soprattutto non si trova a mano d'opera che abbia un minimo di qualificazione per esempio non si trovano più innestatori il problema dell'età anagrafica appaventata prima è un problema reale perché oggi un innestatore ha un'età media che supera gli 80 anni questo è veramente ormai un problema e allora vedete cosa si cerca in un viaggio tipicità territorialità identità che vedete non si può solo esprimere in un concetto meramente quantitativo ma va riempito di quei contenuti le due fotografie sono una cantina moderna fra l'altro queste sono appunto in Campania l'altra è sempre in Campania siamo nell'area di Pompei dove vedete ho messo assieme appunto queste due foto quasi per dare una sorta di continuità di quella che è la tradizione della viticultura del vino e dell'interesse del vino soprattutto in determinate aree in determinate aree del paese e vedete è importante dal punto di vista come dire dell'atteggiamento oggi quello che è vino e cibo nell'autoreferenzialità come dire vogliono esprimere e soprattutto badate come oggi ci si atteggia come col tempo cambiano i nostri atteggiamenti i nostri bisogni nel momento in cui ci avviciniamo ci avviciniamo agli alimenti vedete fino a qualche anno fa i prodotti erano tutti con più 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 oggi sono tutti con meno 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 qui vedete c'è un cambiamento che in qualche maniera bisogna conoscere bisogna gestire questo proprio per dare una maggiore informazione una migliore comunicazione e vedete due piante due piante perché una che è la pianta della vita che è la pianta dei beni materiali ma soprattutto nello stesso tempo sappiamo quanto appunto si è diventata importante la pianta dei beni dei beni materiali e la grande bellezza parliamo di questo paese vale più di un quinto del PIL nazionale per cui poi alla fine non è solo questione di filosofeggiare o parlare di avere delle suggestioni organolettiche relativamente ai prodotti ma significa parlare di patrimonio artistico paesaggistico naturalistico e non gastronomico e voi pensate all'esperienza che si può fare in questo paese scusate sono un poco come dire tiro i remi per casa mia e la bellezza di avere una vigna con tre bocche in eruzione c'è bisogno che dica no basta è finito e poi vedete anche qui senza la comprensione e il supporto ecco perché comunicazione e formazione diventano importanti del grande pubblico cioè bisogna rivolgersi responsabilizzare tutti quelli che sono i custodi quelli che dovranno e saranno i custodi di un territorio senza rispetto alla cura quotidiana dalle comunità locali che sono i veri custodi del patrimonio mondiale non vi saranno fondi che è l'altra nota dolente che spesso assieme alla formazione che è spesso come dire protagonista assente di molte discussioni che è il credito perché soprattutto le piccole realtà le piccole aziende hanno molta più difficoltà da accedere al credito magari più di altri grossi gruppi vedete non vi saranno fondi per quanto ricchi né esperti per quanto numerosi in grado di proteggere questi siti i siti UNESCO in questo caso ma nel nostro i siti paesagistici ultima slide solo per dire il lavoro che noi oggi stiamo realizzando in questo momento in Italia ci sono centinaia di corsi di formazione per sommelier sono partecipati sono partecipati sostanzialmente da tutti da operatori da tecnici ma moltissimi sono partecipati anche da persone che nel vino nella cultura del vino del territorio vogliono trovare un interesse trovano interesse trovano uno svago trovano anche un modo di affermare una propria identità noi facciamo diverse cose una delle cose su cui la dottoressa Lusi è stata coinvolta e speriamo che da qui così come già abbiamo parlato con il professor Agnoletti stamattina si possono sviluppare ulteriore ulteriore collaborazioni è la giornata nazionale della cultura del vino e dell'olio che l'anno prossimo nel 24 arriverà alla 14esima edizione dall'anno scorso abbiamo lanciato un progetto che sono delle borse di studio da assegnare agli istituti scolastici devo dire con grande soddisfazione che in Italia almeno una o due istituti per regione stanno aderendo l'obiettivo è quello di poter coinvolgere nel futuro anche dei partner privati e coinvolgere non solo con un'elargizione di denaro che alla fine per le classi per gli studenti fa sempre comodo ma anche con la possibilità di poter realizzare dove è possibile anche delle esperienze formative all'interno degli istituti questa cosa non la sto dicendo a caso perché per esempio qui c'è la dottoressa Portolo Miolo che lei magari non lo sa domani è domenica ma io non è di la chiamo per dire se possiamo in futuro realizzare qualcosa del genere altro aspetto e dico solo questo veramente ne potrei citare tanti altri altro aspetto dico solo questo noi abbiamo fatto qualche mesetto fa circa Bari una giornata dedicata al sociale e alla solidarietà che è un altro settore di cui mi occupo io che coordino io e c'è stato un momento esaltante di professionalità e nello stesso tempo di umanità perché AIS organizza anche corsi di formazione per ragazzi problematici non ci crederete parlando di vino ma in Italia esiste già da un po' di tempo da alcuni anni un corso per sommegliare astemi cioè per so no ma la cosa bella è che questi ragazzi che chiaramente sono astemi ragazzi signori sono astemi perché hanno delle problematiche hanno delle patologie o hanno delle cure sfruttando quello che è il senso della vista sfruttando quello che è il senso dello sfatto riescono a lavorare riusciamo a collocare addirittura nelle attività di ristorazione e nelle lotteche alcuni di questi ragazzi e qui badate per noi al di là dell'aspetto sociale del voler far del bene del partecipare al bene qui c'è un'altra considerazione che vuol dire che il messaggio della cultura del vino è un messaggio potente un messaggio forte il messaggio della qualità è un messaggio veramente che può arrivare a chiunque e noi lo vogliamo arrivare a chiunque ma significa anche che ne prendi uno ma il bene che fai è decisamente decisamente si ripercuote alla parte più importante di quelle che sono le relazioni che questi soggetti che questi soggetti hanno noi ci ritroveremo a Genova fine mese dove il tema ICE di quest'anno guarda caso è il paesaggio cioè che combinazione e di conseguenza approfondiremo abbiamo iniziato già i primi di marzo poi a maggio a parlare di paesaggio il tema della guida nazionale dei vini la guida vite il tema centrale è stato il paesaggio completeremo un po' questo nostro escurso sul paesaggio concentrandoci proprio sulla convention dove lo affrenderemo nelle diverse sfaccettature sia tecniche climatiche uno dei nostri ospiti sarà Luca Mercalli il famoso climatologo ma devo dire anche paesaggistiche ed artistiche per cui spero che abbiate notizie nostre perché comunque alla fine quasi 140 delegazioni in tutta Italia ci vantiamo come dice il nostro presidente nazionale di essere più presenti nelle caserme dei carabinieri grazie 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 Camillo Privitera per questo interessantissimo intervento tematiche quindi che tornano quindi tematiche chiave quali la formazione la qualità la qualità del prodotto il legame stretto legame tra prodotto e territorio il presidio del territorio penso che questo sia assolutamente un tema chiave anche per noi e poi grazie per aver valorizzato anche il concetto di bellezza il concetto di bellezza che credo sia assolutamente come dire fondamentale anche appunto nell'espressione artistica di quello che poi è l'arte di chi fa viticoltura storica ed eroica passiamo allora dalla vigna andiamo ai pascoli con Raffaello Campostrini che in quanto sindaco del comune di Sant'Anno di Alfaedo rappresenta qui oggi la categoria dei paesaggi policulturali e agrosilvopastorali appello quindi tre vivere e far sopravvivere il cibo locale e di qualità dei paesaggi rurali storici policulturali e silvopastorali grazie e buongiorno a tutti sono anche io unirmi a unirmi ai ringraziamenti veramente di questa iniziativa e questa tre giorni veramente importante e soprattutto che ci dà identità ecco come associazione grazie al grande lavoro della presidente e di tutto lo staff di questi mesi al comune di Amalfi per l'ospitalità io sono qua indegnamente a rappresentare questi paesaggi appunto policulturali e silvopastorali c'è presente in sala anche ecco si è spostata un po' la presentazione purtroppo l'assessore Lucio Leoni del paesaggio policulturale Fibianello e sindaco di Tolfa è vero Stefania Bentivoglio e siamo sei paesaggi appunto dalle terre di Gresta io rappresento gli atipascoli della Lessinia il paesaggio policulturale di Trequanda il paesaggio colinare policulturale di Pienza e Montepulciano e abbiamo cercato ecco di riassumere in questa presentazione quelle che sono chiaramente le criticità che che emergono dai nostri territori anche se gli stimoli usciti oggi ne hanno fatte risaltare molto altro per cui come diceva prima sarebbero da rivedere tanti aspetti che un mese fa quando ci siamo trovati abbiamo fatto emergere così davanti a una riunione così ripetiamo sottolineiamo alcuni passaggi fondamentali che riteniamo doverosi sottolineare per quello che ha il valore il paesaggio in nostri territori il paesaggio ha sempre svolto per l'uomo una insostituibile funzione storico culturale proprio per il mantenimento delle diversità culturali per il patrimonio soprattutto dei saperi che adesso sono collegati questo l'abbiamo ripetuto più volte in varie voci oggi però crediamo fortemente che qui ci stia appunto la cultura la storia i nostri territori e la massificazione a cui si assiste oggi rischia veramente di cancellarlo una funzione simbolico identitaria come appunto anche autoriconoscimento e senso di appartenenza alla comunità mi sembra uscito anche stamattina il fatto che il paesaggio dà un'identità a chi ci vive e chi non si riconosce chi non si sente appunto che non ha questo autoriconoscimento rischia appunto di non riconoscersi più in una comunità più grande e poi sicuramente una funzione economica e di risorsa naturale qua ci sono alcune immagini che chiaramente abbiamo voluto far parlare più ecco le immagini anche l'aspetto paesaggistico estetico dei nostri territori che sicuramente evocano già dei contenuti importanti paesaggi agrari sono sempre stati sono tutt'oggi scrigni cioè salvaguardano la biodiversità sia degli habitat e della specie ma soprattutto la diversità genetica negli ultimi 50 anni purtroppo le varietà biologiche sono fortemente diminuite proprio a causa dell'abbandono del territorio e comunque l'intensificazione degli allevamenti e delle pratiche che hanno ridotto fortemente queste diversità qua altre immagini questo è il paesaggio del Fibianello ecco dicevamo che se dal punto magari dal punto di vista quantitativo l'importanza delle aree rurali è di fatto modesta su scala nazionale però l'aspetto qualitativo e nutrizionale rappresenta certamente un'eccellenza difficilmente riscontrabile le aree rurali offrono inoltre una qualità della vita sempre più apprezzata e ricercata soprattutto dopo gli ultimi anni noi abbiamo visto in particolare nell'area dell'Alessina che rappresento dopo la pandemia e se appunto sono caratterizzate da spazi aperti l'aria fresca e soprattutto dalla ricerca di quei valori che tengono ancora unite le piccole comunità sono comunque ambienti che contribuiscono al benessere fisico e mentale delle persone cosa che si sta sempre più cercando e di cui ci si è accorti dell'estrema necessità inoltre è stato toccato anche questo tema svolgono chiaramente un ruolo chiave nella prevenzione degli incendi dei dissesti idrogeologici si nota che dove c'è l'abbandono chiaramente dei prati dei pascoli posti in aree dove i macchinari chiaramente non possono arrivare l'aumento dei dissesti idrogeologici e poi il rischio di incendi chiaramente diventa subito all'ordine del giorno perché l'avere abbandonato le pratiche di gestione del territorio la manutenzione e la presenza dell'uomo questo di fatto apre la strada ad altre problematiche qui altre immagini dei nostri paesaggi la conservazione del paesaggio dunque non può prescindere dalla permanenza nel territorio delle coltivazioni e dell'allevamento le uniche capaci di mantenere la qualità e la tipicità delle produzioni di conservare prati e pascoli e il patrimonio culturale di un territorio arriviamo un po' alle problematiche e le criticità e l'abbandono dei pascoli e delle pratiche tradizionali dovute appunto negli ultimi decenni alla perdita della competitività economica e sociale e delle forme tradizionali di agricoltura e allevamento sicuramente un impoverimento anche del paesaggio con l'avanzare del bosco degli arbusti c'è una perdita della qualità estetica e dunque anche dicevamo della godibilità scenografica e paesaggio gli stessi vincoli o strumenti normativi che insomma alle volte sono tanto invocati però noi siamo a rilevare come essi da un certo punto certamente mirano la conservazione della biodiversità e paesaggio però noi che siamo paesaggi rurali vediamo come certe volte questo sia lasciato un po' in secondo piano questo chiaramente comporta un po' delle conseguenze negative soprattutto sulle pratiche agricole ed è un disincentivo a quelli quei giovani che magari tentano di recuperare edifici rurali abbandonati per attività che magari difficilmente potrebbero essere ritornare a un'attività agricola ma vorrebbero riconvertirle in strutture turistico ricettive però alle volte anche per quanto riguarda la nostra zona per esempio il parco della Lessina non permette alcune volte queste trasformazioni altre problematiche noi le abbiamo riscontrate in modo forte in Lessinia ma anche nel parco Fibianello diceva appunto Lucio Leoni la mancanza ecco del controllo della gestione della fauna selvatica da noi da dieci anni la presenza del lupo sta mettendo veramente l'ultima goccia di fronte a tanti chiaramente altri problemi che ci sono sui territori però questo mortifica veramente il lavoro degli agricoltori e degli allevatori quando vedono il loro bestiame predato e soprattutto che le istituzioni fanno fatica a intervenire nel contenimento ma soprattutto nell'essere vicini alle loro attività questo chiaramente la presenza della fauna selvatica soprattutto lupo e cinghiali ecco ha portato un cambio radicale anche delle tecniche di allevamento all'abbandono di altre superfici pastorali e magari allo sfruttamento eccessivo di altre aree dove chiaramente vengono portati gli animali ecco l'appello è sicuramente la necessità di lavorare seriamente dal punto di vista delle regioni del ministero per una maggiore e più corretta gestione perché il senso di abbandono delle nostre piccole comunità si sente si sente forte ecco anche gli stessi comuni alle volte faticano a cogliere quali sono magari le finalità di scelte politiche che dall'alto ricadono su di loro perché non spesso sono coinvolti nella determinazione appunto delle scelte un'altra criticità sono le produzioni frammentate perché spesso le aziende sono molto piccole a condizione familiare oppure proprietà condivisa tra tanti soggetti e basta alle volte che ci sia solo qualcuno che non condivide i progetti di valorizzazione e tutto rimane fermo l'ultima criticità vedevamo anche nella difficoltà dell'accesso ai finanziamenti la troppa burocrazia comporta difficoltà nella partecipazione ai bandi soprattutto quelli necessari alla manutenzione alla riconversione del patrimonio e poi il problema dello spopolamento che tocca tutti delle aree rurali questa un'altra immagine della Lessinia arrivo alla conclusione le prospettive future le cooperative di comunità rappresentano certamente una risposta interessante perché uniscono comuni aziende e altri soggetti verso un obiettivo comune dicevamo appunto la necessità di passare da un sistema frammentato in cui gli agricoltori gli operatori turistici i turisti stessi ognuno fruisce e pensa diciamo tra virgolette al proprio interesse dobbiamo passare a un sistema coeso cioè per dare vita e sostenibilità al territorio e non predare diciamo ognuno territorio per il proprio interesse le aree rurali e dei prati pascoli vengono spesso secondo noi anche recepiti dai visitatori come aree naturali ma c'è la difficoltà nel far capire proprio ai visitatori che queste possono avere un futuro possono essere conservate solo se vengono gestite appunto attraverso un utilizzo agricolo pastorale questo è un tema sicuramente molto difficile da trasmettere a chi non è cresciuto a chi non conosce queste aree e ci sarà da lavorare dal punto di vista culturale in modo importante e appunto lavorare su questo rapporto tra turisti e mondo agricolo ma che spesso sembra essere più un rapporto di sopportazione reciproca ma invece andare verso un rapporto di mutua collaborazione e ecco alcuni spunti per la valorizzazione di quelli che sono i prodotti chiaramente continuando sulla strada del valorizzare l'unicità e l'autenticità dei prodotti proprio legati al territorio da cui provengono saper comunicare le storie e le tradizioni che stanno dietro a questi prodotti evidenziandone appunto la storia locale ottenere quelle che sono certificazioni di qualità per dare prestigio e autenticità ai prodotti che chiaramente ci contribuiscono a rafforzare la fiducia dei consumatori e poi un'altra idea che chiaramente è già uscita anche nella mattinata è dotarsi come registro nazionale dei paesaggi rurali anche di un marchio dei prodotti che provengono da tali aree grazie per l'attenzione grazie raffaello grazie per avere come dire riferito ancora una volta e riportato all'attenzione purtroppo due diciamo tematiche assolutamente chiave rispetto agli argomenti che stiamo trattando oggi ovvero la perdita di una parte della nostra identità e di un patrimonio che sta scomparendo quindi questa è assolutamente una diciamo una battaglia per noi che ripeto come associazione cercheremo di portare avanti abbiamo parlato di funzioni delle varie funzioni sociali economiche e ambientali dei paesaggi policulturali agrosilvopastorali e grazie anche Raffaello per aver accennato a degli elementi nuovi che rappresentano le minacce in questo caso specifico riferite alla parte pastorale e ovvero la mancanza del controllo sulla fauna selvatica questa è una tematica ricorrente lungo tutto lo stivale è un problema è un fenomeno in crescita è un problema enorme quindi anche qui ci vorrebbe un'azione credo diciamo di tipo nazionale per far fronte a questa a questa minaccia a questo punto no un altro tema molto importante è l'accessibilità accessibilità ai fondi credo che questa sia a tutti gli effetti una barriera una barriera per le aziende agricole diciamo ad accedere a potenziali finanziamenti che potrebbero a tutti gli effetti rappresentare un supporto fattivo diciamo economico al sostentamento di queste realtà quindi anche questo sicuramente è un tema molto 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 importante e allora per completare e chiudere la parte di appello 3 dedicata ai paesaggi policulturali agrosilvopastorali chiedo ad Angelo Barone presidente della consulta nazionale dei distretti del cibo di valorizzare invece il tema diciamo che lega cibo e paesaggio prego Angelo grazie grazie a voi per l'invito e credo che le parole che sono emerse più volte oggi sono quello di lavorare in rete fare sistema sinergia essere consapevoli di quello che è la bellezza del nostro paesaggio la qualità del nostro cibo i nostri beni culturali unici il nostro patrimonio immateriale oramai credo che ci siano le condizioni nel nostro paese affinché si possa attivare un'azione forte verso il governo verso i decisori politici per fare in modo che tutto tutto questo valore che sono gli asset più importanti del nostro paese asset naturali che abbiamo e che ci possano essere anche delle scelte politiche di investimenti adeguati al valore che hanno questi beni e da questo punto di vista credo che ci siano le condizioni perché nel nostro paese dopo Espo 2015 anche la pubblica opinione si è resa consapevole dell'importanza della qualità e salubrità del cibo e del fatto che dobbiamo anche tutelare l'ambiente e il nostro territorio e da questo punto di vista il legislatore nel 2017 proprio per cominciare a declinare alcuni impegni previsti da agenda 2030 individua nei distretti del cibo lo strumento per realizzare per favorire questa transizione del nostro sistema agroalimentare verso la sostenibilità e gli dà tutta una serie di compiti in cui tra questi oltre la sicurezza alimentare lo spreco alimentare le cose c'è progetto di sviluppo territoriale sostenibile e del paesaggio e credo che questa sia la questione centrale paesaggio non inteso come luogo contemplativo ed estetico ma paesaggio inteso come luogo vivo dove ci sono le attività degli agricoltori degli artigiani dove c'è l'identità del territorio e della propria comunità e da questo punto di vista i distretti del Cipo possono svolgere una funzione stanno svolgendo una funzione importante per favorire quello che ritengo che sia essenziale per realizzare dei progetti di sviluppo territoriale sostenibili la condivisione del progetto evitare la sovrapposizione dei tanti soggetti che operano nel territorio e invece favorire la complementarità e quindi da questo punto di vista il lavoro più importante che abbiamo tutti insieme che dobbiamo fare è trovare questo modo di lavorare tant'è vero che noi sin dall'inizio quando ci siamo costituiti come consulta nazionale dei distretti del Cipo abbiamo voluto dialogare con le istituzioni il governo centrale quindi il Masaf con la conferenza delle regioni e con l'Anci perché riteniamo che li sono i decisori politici e nello stesso momento ci siamo fatti carico anche di cominciare a organizzare e lavorare in rete nel sistema privato tant'è vero che rispetto ai temi che stiamo discutendo oggi noi abbiamo lavorato per cominciare a lavorare insieme con la costituente associazione dei paesaggi storici rurali infatti oramai ci vediamo spesso in tante occasioni per quanto riguarda i beni culturali l'associazione patrimonio mondiale dell'umanità per quanto riguarda i beni immateriali quindi l'istituto centrale del ministero della cultura che si occupa della valorizzazione dei beni immateriali per fare per cominciare a lavorare insieme e porci anche rispetto nel rapporto con i decisori politici per realizzare progetti condivisi abbiamo cominciato a Matera e credo che abbiamo cominciato anche bene e a Matera abbiamo messo al centro la ruralità per quello che rappresenta Matera partendo sempre dall'aspetto culturale e soprattutto partendo dal fatto che un progetto di sviluppo sostenibile si realizza se la comunità lo vive ed è partecipa in modo attivo e abbiamo voluto cominciare da Matera perché Matera come capitale della cultura abbiamo avuto modo di verificare che il successo è stato non quando è stato riconosciuto patrimonio UNESCO ma quando invece capitale della cultura è stata condivisa da tutta la comunità si è resa partecipe tutta la comunità e quindi da questo punto di vista noi abbiamo l'obbligo tutti gli attori che lavoriamo nel territorio a rendere protagonista perché poi alla fine ultimo è rendere perché lo sviluppo sostenibile si realizza non soltanto dal punto di vista economico ambientale ma dal punto di vista importante dal punto di vista sociale se la comunità lo condivide e ne trae un beneficio quello è il fine ultimo che noi abbiamo davanti e ora stiamo lavorando ai prossimi appuntamenti così come stiamo lavorando anche a quello che oggi è emerso in modo chiaro oggi che è l'aspetto della formazione quindi quello di avere dei soggetti che siano in grado in modo specifico sul nostro settore che è il più delicato e il più importante nel nostro paese ce ne stiamo accorgendo con quello che è successo prima in Emilia è oggi in Toscana e domani in qualche altra regione che è quella della manutenzione del territorio e quindi da questo punto di vista avere quelle professionalità capaci di saper progettare progetti in questo senso interessanti tant'è vero che noi una delle prime cose che stiamo facendo è insieme alla Cattro Unesco sul paesaggio agricolo Unesco presso il D'Agri di Firenze stiamo costituendo insieme il centro studi e invito anche gli altri a partecipare anche l'associazione dei paesaggi storici rurali alla condivisione e partecipazione di un centro studi dove il fine ultimo è quello proprio di realizzare dei corsi di alta formazione sul paesaggio perché dobbiamo avere poi quelle professionalità in tutti i comuni in tutta la realtà in tutti i paesaggi in tutti i distretti avere quelle professionalità adeguate che possano realizzare che possano realizzare questo lavoro e il giorno 1, 2, 3 saremo proprio in Toscana nel comune di Cravigli che già con un progetto di rigenerazione urbana ci sta offrendo l'opportunità di avere la sede e ospitare i ragazzi che si vogliono formare su questa questione del paese su questi progetti di corsi di alta formazione del paesaggio e soprattutto ritengo che sia strategico anche trovare un modo di confronto anche col decisore politico unico noi stiamo realizzando ogni anno in ogni regione questo appuntamento con queste caratterizze con questi soggetti e vogliamo sempre allargare la partecipazione perché ci sono anche tanti altri soggetti con Lanci con Santoro abbiamo discusso giustamente Lanci che fa riferimento a tutti i comuni tant'è vero che molti di voi sono delegati per la cultura delegati per il paesaggio tutta una serie di cose dove ci sono tanti comuni le città dell'olio le città del vino le vie del vino le vie dell'olio cioè c'è tutta una serie di attori che noi riteniamo che dobbiamo lavorare insieme ed essere complementari nella nostra nella nostra azione tant'è vero che noi il 21 22 e 23 con la partecipazione attiva da protagonista della regione della regione Piemonte faremo una tre giorni per affrontare questo e fare in modo che anche ci sia il confronto col decisore politico perché la regione si è preso l'impegno di far convocare la conferenza delle regioni e delle province autonome su questi temi sui temi delle linee guida dei distretti del cibo e delle politiche di sviluppo territoriali perché se non si fa questo giustamente abbiamo voglia di dire che ci sono queste esigenze ci sono queste cose se poi nei piani di sviluppo rurale nelle politiche di accompagnamento alla PAC non ci sono le risorse per fare in modo che gli operatori che operano in queste aree difficili svolgono questa funzione essenziale non abbiano quell'integrazione a reddito quel sostegno per svolgere questa attività se nell'ambito dell'Unione Europea si riconosce che gli ecoschemi sono uno strumento allora li dobbiamo applicare allora dobbiamo mettere le risorse perché in questi paesaggi chiaramente chi fa questo tipo di attività a volte è veramente un eroe e svolge una funzione sociale svolge una funzione di salvaguarda del territorio di custodio e che ha quando parliamo di attività di politica di prevenzione questa è la vera prevenzione riuscire a mantenere e continuare a mantenere nel territorio queste tipi di attività e fare la manutenzione di questi paesaggi quindi da questo punto di vista quindi ritengo che sia un'opportunità questo confronto e quindi vi inviteremo allarghiamo la partecipazione già ho parlato con quelli delle città del vino oggi c'è le città dell'olio in modo che si allarga sempre questa nostra rete perché lavorare in rete è la questione più importante qual è? La conoscenza perché oggi veniamo a conoscenza con i tanti incontri di tante buone prassi di tante buone cose che si fanno veniamo a conoscere tanti bravi sindaci che operano bene e dobbiamo valorizzare tutti questi tipi di attività e quindi questa è la funzione primaria che noi ci siamo assunti come consulta nazionale dei distretti del cibo e siamo riusciti a fare in modo che presso il ministero ci sia un tavolo nazionale di confronto tra il Masaf e anche le organizzazioni professionali agricole e la consulta nazionale dei distretti del cibo su questi temi che riteniamo che siano essenziali io ho mutuato dall'esperienza con il vostro rapporto non parlo più di progetti di sviluppo territoriale parlo di progetti di sviluppo paesaggistico perché il paesaggio ingloba tutto non soltanto il territorio dal punto di vista urbanistico e dal punto di vista cosa fa merito al comune di Pollica il lavoro che sta facendo ma devo dire grazie anche al nostro distretto in un'area logistica la più importante d'Europa l'area Ex Expo quindi l'area del comune di Ro e là anche l'agricoltura oggi la delega all'agricoltura ce l'ha l'assessore all'urbanistica perché si sono resi conto dell'importanza che c'è nel salvaguardare le attività agricole e il verde in quell'area di grande sviluppo logistico internazionale quindi per dire che queste politiche stanno andando avanti dobbiamo continuare con questo spirito perché se lo facciamo insieme e abbiamo la consepolezza della forza che rappresentiamo perché se mettiamo insieme 400 città quanti sono quelli del vino cioè se tutti questi sindaci che città significa il sindaco mi sembra proprio e quindi quale forza abbiamo insieme per chiedere non soltanto attenzione ma risorse per portare avanti questi questi progetti questi progetti di sviluppo di sviluppo territoriale quindi io da questo punto di vista quello che mi sento di dire in questa occasione che dobbiamo continuare a lavorare così a continuare questa rete e la questione più importante più delicata è quella proprio di evitare le sovrapposizioni le gelosie le cose ma la complementarietà di ognuno di noi perché ognuno rappresenta una cosa può essere utile può essere utile all'altro e i distretti del cibo si candino a svolgere questa funzione senza nessuna presunzione stiamo lavorando proprio per allargare la rete perché quando si lavora in rete non c'è una leadership nella rete si è tutti alla pari il problema è che ognuno si pone ognuno si mette a disposizione del progetto di sviluppo complessivo sapendo che questi tre asset sono gli asset veramente più importanti e oggi in questo momento anche dal punto di vista delle politiche internazionali anche il nostro paese usa il cibo per quello che rappresenta l'Italia in questo momento c'è la settimana della cucina italiana nel mondo cioè in tutte le nostre ambasciate in tutte le nostre ambasciate più importanti nel mondo facciamo attività di promozione territoriale tramite il cibo e oggi mi fa piacere che noi a Pechino la consulta nazionale dei distretti del cibo grazie alla professoressa Teresa del Giudice siamo presenti in questa iniziativa così importante e straordinariamente importante quindi io l'invito che faccio intanto il plauso al lavoro fatto all'organizzazione di questo bell'incontro e ritengo che queste questioni che sono state messe al centro della vostra iniziativa sono condivise da tutti e io ritengo che sono condivise anche dalla stragrande dell'opinione pubblica nazionale e quindi se siamo consapevoli del valore delle cose che rappresentiamo dobbiamo essere anche non presuntuosi consapevoli di questo però dobbiamo essere ambiziosi dobbiamo essere ambiziosi perché la bellezza che rappresenta la cultura che rappresentano i nostri beni sono una cosa unica invidiata in tutto il mondo e che dobbiamo saper valorizzare e dobbiamo saper sempre di più affermare nelle politiche di sviluppo del nostro paese quando io insisto su queste questioni della governance territoriale dell'apporto di sistema anche con con la pubblica amministrazione perché discutendo tra di noi ci si rende conto la difficoltà perché noi parliamo insieme di sviluppo territoriale turismo commercio artigianato poi però la pubblica amministrazione non è attrezzata ad affrontare queste questioni in modo sistemico perché magari gli assessori all'agricoltura con quello del turismo non dialogo con quello cioè ci sono questi tipi di difficoltà e li dobbiamo aiutare noi con la nostra azione perché noi dobbiamo saper lavorare insieme agricoltori artigiani commercianti a un progetto di sviluppo comune e se noi lo facciamo dobbiamo abituare anche la pubblica amministrazione ad avere questo tipo di visione e credo che l'appuntamento che faremo questa tre giorni la prima di settore in Piemonte possa essere un'occasione dove ognuno di noi può dare il proprio contributo e far rendere conto anche al decisore politico che questa è la strada che dobbiamo perseguire e questo è quello che dobbiamo portare avanti e quindi con questo spirito vi invito prima ad essere presenti l'uno due e il tre a Cavriglia perché abbiamo interessi comuni perché realizzare il centro studi fare il corso di alta formazione discutere tre giorni di questi temi soprattutto in questo momento la regione toscana che è stata colpita da una grande calamità mi sembra attualissimo discutere di questo e poi il 21 e il 23 marzo in Piemonte perché insieme e io ritengo che le città slow già con Pisani è venuto a Matera cioè oramai sta diventando una consuetudine vederci e lavorare e deve diventare sempre di più una consuetudine perché soltanto da quello scambio di conoscenze e dell'attivazione delle sinergie possiamo veramente svolgere fino in fondo e bene il nostro compito e la consulta nazionale dei distretti del cibo è al servizio di questo progetto comune grazie grazie Angelo grazie mille qualche pillola dal tuo intervento che mi piace riproporre velocemente quindi abbiamo detto patrimonio agroalimentare e cibo come asset questo credo è un concetto assolutamente fondamentale il ruolo dei distretti del cibo rispetto agli obiettivi di sviluppo sostenibile collegati all'agenda 2030 abbiamo parlato stamattina il referente di Asvis quindi sostenibilità e poi ancora una volta torna il concetto di rete quindi legato alla condivisione al fare squadra all'unirsi di soggetti complementari eterogenei che però possono fare sistema e operare congiuntamente per il raggiungimento di obiettivi comuni e arriviamo allora a questo punto all'ultimo appello last but not least si direbbe in inglese parliamo dell'oro blu di acqua Marcello Mari ci parlerà dei paesaggi della bonifica dell'irrigazione e quindi delle forme dell'acqua dunque buongiorno io sono qui come portavoce dei paesaggi di bonifica e di acqua invito Lorella Belleli a venire qui anche lei noi siamo pochi siamo in tre il gruppo meno numeroso probabilmente questo è dovuto al fatto che l'Italia è un paese essenzialmente montano e collinare quindi le aree di pianura sono una percentuale molto ridotta così anche i paesaggi d'acqua e di bonifica sono rari al di là della pianura padana che da sola rappresenta gran parte dei nostri territori di pianura poche sono le pianure di grande estensione e ancora meno i paesaggi ancora meno sono i paesaggi di bonifica e di acqua sono comunque fra gli ambienti produttivi più importanti del panorama del sistema agricolo nazionale da questi ambienti arrivano alcuni dei prodotti agricoli di base della nostra alimentazione come il grano il riso il mais le foraggere e rappresentano dunque una risorsa economica primaria grazie a questa loro elevata produttività in genere i paesaggi di pianura non soffrono del problema dell'abbandono come molte aree che affligge invece le aree collinare e montane ed i rischi che corrono sono legati più alle trasformazioni all'urbanizzazione ai cambiamenti climatici come vedremo anche nelle presentazioni delle singole aree comunque questi paesaggi sono ben rappresentati dai tre siti iscritti nel registro che sono il paesaggio delle praterie e canali rigui della valdenza rappresentato da Loretta Belleli il paesaggio della bonifica romana e dei campi allagati della piana di Rieti che è rappresentato da me e il paesaggio della bonifica leopoldina della valdichiana che è rappresentato da Roberta Casini cominciamo quindi a vedere il paesaggio in riguo delle praterie e dei canali rigui della valdenza siamo in territorio reggiano all'interno dell'unione della valdenza a confina con la provincia di Parma un territorio di 3.700 et rivocato per la coltivazione di pregiate foraggere finalizzate alla produzione del parmigiano reggiano quindi di un'eccellenza mondiale siamo nel territorio di Matilde di Canossa qui erano situati i suoi terreni fertili e qui è nato il formadio che oggi è il parmigiano reggiano come testimonia a una preziosa pergamena del 1159 quale formaggio vaccino particolarmente richiesto fin da quei tempi per la sua lunga conservazione utile per sopperire a periodi di carestie e di assedi l'area si inserisce nella conoide allivuniale di pianura formata dagli estralipamenti del torrente Enza al termine dell'ultima glaciazione che hanno quindi formato un territorio particolarmente fertile e drenante questo versante è solcato da sei canali artificiali emissari alcuni dei quali costruiti oltre mille anni fa e tuttora gestiti da sette consorsi tra agricoltori questi canali servono per l'irrigazione dei prati stabili come base dell'alimentazione in fresco o con fieni come regolamentato dal disciplinare di tutela del parmigiano reggiano i prati stabili sono colture ricche di specie fonte di biodiversità sono un vero e proprio carbon sink per l'assenza di arature e per la presenza di specie sempre verdi conferiscono sostanze organolettiche di eccellenza e qualità al prodotto finale i suoli sono ricchi di sostanza organica e non si utilizzano prodotti chimici per la coltivazione oltre il 60% dei prati stabili di quest'area superano i 75 anni di permanenza questi prati esigono l'irrigazione con uno specifico metodo a scorrimento che richiede un perfetto livellamento dei terreni con pendenze non superiori all'1% per consentire l'allagamento l'assorbimento e il recupero a valle delle acque in eccesso lo studio intrapreso si è avvalso di un'abbondante documentazione storica che ha permesso la riconoscibilità e l'integrità storica del paesaggio con una classe di integrità che supera l'82% tuttavia si manifesta una tendenza al calo delle praterie per la minore disponibilità idrica data dai cambiamenti climatici i prati stabili rischiano quindi di essere sostituiti da colture meno idroesigenti come l'erba medica che è caratterizzata da un apparato radicale più profondo anche i contributi a livello regionale sono in calo rispetto ai PSR di anni addietro e non compensano a sufficienza le minori produzioni del prato stabile rispetto ai medicai e nemmeno i maggiori costi energetici per la captazione di acque da pozzi per il rimpinguimento dei canali questo sistema riguo viene a volte criticato in quanto ritenuto ad alta esigenza d'acqua in realtà non si valuta che mantiene la sua efficacia e mantiene il terreno fresco per molti giorni quindi richiede meno interventi rigui e che l'acqua in eccesso viene recuperata a valle percolando e depurando si va a rimpinguare le falde di un territorio particolarmente ritenante e quindi a rischio di inquinamento per ottimizzare le acque è stato sviluppato un recente progetto Prate Smart applicato per ora sperimentalmente in un'azienda che consente di meccanizzare e monitorare l'apporto in riguo con un significativo risparmio d'acqua di oltre il 30% e di manodopera il sistema riguo a scorrimento è particolarmente capillare essendo costituito da canali canalette e scoline quindi una vera e propria rete vascolare di estrema importanza non solo per l'aspetto riguo ma anche per lo scolo delle acque piovane e sappiamo da decenti disastri quanto questo possa essere importante crediamo pertanto che la valenza di questo sistema culturale sia da preservare in quanto è frutto di un binomio fra idraulica ed agronomia altamente specializzato conferisce eccellenti qualità organelettiche al parmigiano reggiano ed è estremamente valido dal punto di vista ambientale a beneficio dunque di tutta la comunità per il paesaggio storico della valdenza si intende proporre un ulteriore importante passaggio vale a dire la candidatura al Gias in quanto si crede fermamente nell'importanza di applicare i principi della conservazione dinamica cioè di sfruttare queste tecniche per uno sviluppo sostenibile con benefici diretti e indiretti per la popolazione facendo diventare quindi questo paesaggio tradizionale il motore dello sviluppo rurale di queste aree grazie 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 mille Marcello Marcello ha messo in evidenza delle ulteriori problematiche diciamo aggiuntive che riguardano ovviamente in questo caso più nello specifico i paesaggi dell'acqua nella fattispecie ha fatto riferimento all'urbanizzazione che non era ancora stata citata fin qui alle trasformazioni territoriali ovviamente anche questi paesaggi diciamo sono toccati dalla problematica del cambiamento climatico questo è un ovviamente tema trasversale ma poi ringrazio in particolare Marcello per aver rappresentato diciamo la categoria anche con proprio dei casi studio e portando anche delle best practices in questo caso che arrivano dalla Valdenza proprio per diciamo che mettono in evidenza come si possono anche trovare soluzioni ai problemi perché poi bisogna dare risposta ai problemi ah non aveva non funziona più ah volevi aggiungere qualcosa non va più avanti la slide sì no ma dico avevi finito o no? no no ah non aveva finito ah io ho visto la slide finale io ho visto la slide finale abbiamo presentato solo la Valdenza adesso dobbiamo presentare no perché c'era la slide finale allora scusate allora prego vai avanti però questo si è bloccato non capivo perché ti hai rifermato poi sulla slide finale ok eccolo quindi continuo ho fatto un riassunto diciamo intrametto di tutto va benissimo quindi ci siamo avvantaggiati il secondo paesaggio di cui parliamo è quello della bonifica romana e dei campi allagati della piana di Rieti si tratta di una delle più vaste pianure intremontane del centro Italia generata all'epoca dei romani da una bonifica che prosciugò il lago Velino scoprendo una vasta area fertile per gran parte è un'area agricola attivamente coltivata ma permangono nelle zone più depresse i resti dell'antico lago con tre piccoli laghi circondati da aree umide periodicamente allagate e da aree naturali con cannedi e boschi ripariali che creano zone umide di grande valore per queste caratteristiche tutta la piana è una riserva naturale regionale e un sito di interesse comunitario dall'alto l'aspetto è quello di un grande articolato mosaico agricolo la piana è ricchissima di acque dalle sorgenti di Santa Susanna che sono fra le più grandi d'Europa al fiume Velino al fiume Santa Susanna ai due laghi lungo e ripasottile a una fitta rete di canali che qui vedete attraversano è un pettine assolutamente fittissimo che attraversa tutta la piana creati questi canali in parte dagli antichi romani e in seguito arricchiti dagli agricoltori per irrigare i loro campi la grande ricchezza di acqua e crea dunque un'immagine molto lontana dall'immagine classica delle grandi pianure che spesso sono monotene e prive di elementi naturali qui invece il paesaggio è ricco e variato e alterna campi e coltivazioni a residui di canneti di boschi di zone umide di filari albirari e di siepe pur potendosi definire come un grande paesaggio agrario al suo interno presenta paesaggi diversi a seconda della vicinanza con l'acqua e della quantità di acqua che li percorre così si va dai paesaggi naturali ai campi umidi periodicamente allagati ai piccoli campi a orti irrigui delimitati da fossi e scoline ai caratteristici campi chiusi familiari delimitati da siepe e filari ai seminativi irrigui fino ai vasti campi dell'agricoltura estensiva nelle aree più lontane dai laghi in questo paesaggio già così ricco spiccano numerosi nuclei rurali che conservano la tipica alcritettura della bonifica e rappresentano un grande patrimonio un altro degli aspetti che rendono preziosa questa piana è la grande tradizione nella granicoltura qui il più grande genetista agricolo italiano Nazareno Strampelli fondò un centro sperimentale all'avanguardia qui selezionò la varietà del riete originario che moltiplicò la capacità produttiva e sempre qui nacque la varietà San Pastore e la senatore Cappelli oggi la piana è una delle aree agricole più importanti della provincia insieme è una delle aree più preziose del Lazio e conserva un patrimonio di tradizione importante alla base di tutto c'è sempre l'acqua adesso come quando c'era il lago e la sopravvivenza del paesaggio dipende dalla quantità e dalla qualità di queste acque per questo gli sforzi dell'ente gestore della riserva che ha promosso l'iscrizione nel registro e dei comuni vanno tutta in questa direzione cercando di coniugare le esigenze ambientali e paesistiche con le legittime esigenze economiche e produttive degli agricoltori come abbiamo già detto l'area non soffre di problematiche né da abbandono o da degrado e le principali problematiche oggi provengono da il delicato equilibrio fa le esigenze della tutela naturalistica ambientale e quella della produttività le limitazioni all'uso di fertilizzanti e di concimi chimici di vieti di tagli di alberature della vegetazione ripariale delle siepi le limitazioni alla nuova edificazione anche se ormai accettate da decenni sono a volte oggetto di attriti ma oggi i maggiori problemi e conflitti vengono dai danni alle culture causate dai cinghiali e dagli altri ungolati protetti nel perimetro della riserva naturale ne conseguono elevate necessità di compensazioni economiche per queste limitazioni e danni che vanno oltre le limitate disponibilità delle riserve e dei comuni al di là di questi aspetti bisogna sottolineare però come una pianificazione attenta al comparto agricolo un dialogo sempre aperto numerosi progetti di sostegno delle attività agricole complementari hanno fatto sì che il rapporto della riserva naturale con il territorio sia comunque buono e complessivamente pur se con qualche criticità si può ritenere che attualmente ci sia un buon equilibrio fare progetti futuri l'idea di riportare nella piana le varietà di grano storico magari con l'assistenza e incentivi agli agricoltori di rivitalizzare il centro sperimentale per la granicoltura di diversificare e indirizzare meglio il turismo di creare un marchio di qualità anche in questo caso per gli agricoltori che risedono al Gias e l'ambizione di iscrivere la piana nel registro del Gias grazie anche per questo il terzo paesaggio è la bonifica leopoldina della Val di Chiana l'area si stende per 23.700 ettari un'area molto vasta include 12 comuni Castiglion-Fiorentino Chiusi Civitella in Val di Chiana Cortona Fogliano Lucignano Marciano Montepurciano Monte San Savino Sinalunga e Torrita il paesaggio era già intensamente coltivato nell'epoca estrusca l'iscrizione al registro è riguardato principalmente il reticolo di fossi e canali realizzato con le opere di bonifica iniziate al seguito all'impaludamento generatosi alla caduta dell'impero romano per l'interruzione delle pratiche di regimazione idraulica le attività di bonifica iniziate già nel XV secolo con studi a cui si dedicò perfino Leonardo da Vinci si conclusero solo nella prima metà del secolo XIX consentendo lo sviluppo di un'economia di tipo mezzadrile il valore degli insediamenti rurali è testimoniato anche dalla presenza di dieci fattorie granducali e da una struttura poderale caratterizzata dalla presenza di case coloniche con caratteri costruttivi distintivi denominate leopoldine con riferimento al granduca Leopoldo di Leorena che ne proposse la diffusione numerosi sono i protetti tipici quali la chianina una razza bovina che ha caratterizzato tutta la storia della mezzadria di quest'area e altre culture tipiche caratterizzano l'agricoltura contribuendo alla significatività del paesaggio alla qualità del paesaggio poi contribuiscono in modo notevole anche i borghi disposti sulle colline caratterizzati dei centri storici con monumenti ad opere d'arte di notevole valore il reticolo idrografico legato agli interventi di bonifica presenta elementi di significatività in buono stato di conservazione le superfici dei seminativi lungo il canale maestro della Chiana si sono mantenute sostanzialmente integre durante il corso degli anni appare ancora notevole la presenza di alberature nei campi sebbene non in cultura promiscua l'espansione di nuovi insediamenti urbanistici specialmente intorno ai borghi storici costituisce un elemento di criticità insieme all'espandersi dell'agricoltura estensiva nel fondo valle si segnalano numerosi interventi di recupero di fabbricati colonici storici in tutta l'area soprattutto ad opera di privati la conservazione del paesaggio comunque è garantita oltre dalla permanenza delle attività agricole anche dalle amministrazioni comunali riunite in una società di qualità e sviluppo rurale partecipata anche dall'unione dei comuni di Valleval di Chiana Senese dal consorzio del vino nobile di Montepulciano e dall'unione provinciale degli agricoltori di Siena nell'area sono presenti numerosi progetti di valorizzazione del paesaggio in particolare un grande progetto della regione toscana per il recupero delle leopoldine e per la pista ciclabile che percorre tutto il canale maestro della Chiana La tutela è oggetto di interesse anche di alcuni importanti entri tra cui il consorzio di bonifica dell'Alto Val d'Arno e l'Associazione per la tutela e valorizzazione dell'Aglione della Val di Clana Sull'area sono presenti molte iniziative a tutela e conservazione del territorio che si sono dimostrate utili per il mantenimento del paesaggio Sono state avviate iniziative volte alla riduzione degli elementi di criticità come l'espandersi delle culture agricole intensive con parallela eliminazione delle culture tradizionali la limitazione di progetti di espansione urbanistica caratterizzati da scarsa qualità e non inseriti nel contesto storico architettonico locale si stanno inoltre valorizzando gli aspetti qualitativi del paesaggio rurale abbinando il restauro dei fabbricati storici al restauro del paesaggio rurale storico grazie anche per questo chiedo conferma che abbiamo che abbiamo terminato scherzo scherzo ovviamente allora quindi grazie a Marcello Mari ancora una volta per questa carrellata sui paesaggi rurali storici caratterizzati dall'acqua abbiamo quindi parlato di prati stabili dei paesaggi della bonifica e di interessanti insights proprio su progettualità iniziative che questi paesaggi stanno diciamo mettendo in atto per far fronte a problematiche diciamo collegate appunto a fenomeni quali in questo caso l'urbanizzazione ed altro genere di problematiche a questo punto con questo intervento chiudiamo con la seconda sessione del nostro convegno odierno e apriamo invece la terza e l'ultima sessione modererò io se la Presidente è d'accordo perché la Vice Presidente ha avuto un imprevisto per cui facciamo un cambio di relatori ah sì scusami Angelo voleva integrare qualcosa rispetto semplicemente un piano di lavoro come sapete il Masaf ha delegato l'ISMEA a seguire i paesaggi rurali storici l'ISMEA a settembre ha pubblicato delle linee guide sulla mappatura dei paesaggi rurali storici e ha realizzato un progetto ad hoc per un paesaggio del Piemonte che mi sembra interessante questa mappatura così come è stata sviluppata così come è stata realizzata e sarà al centro io ho già scritto alla direttrice del abbiamo un protocollo d'intesa con l'ISMEA e vorrei che questa discussione il 21 di marzo sia all'ordine del giorno della nostra iniziativa che si fa a Torino quindi studiamo bene se condividiamo questa mappatura se si può implementare come si può migliorare in modo che proponiamo poi all'ISMEA di estendere a tutti i paesaggi rurali storici questo tipo di strumento che mi sembra molto interessante da questo punto di vista e quindi lo volevo dire in modo che ci lavoriamo magari facciamo qualche appuntamento prima per vedere se condividiamo come implementarlo che ruolo si può svolgere per migliorare questo lavoro se riteniamo che già va bene così chiediamo di implementarlo a tutti i paesaggi che mi sembra uno strumento interessante per promuovere e conoscere bene i paesaggi rurali storici è soltanto questo prego grazie Angelo allora apriamo ufficialmente la terza sessione intitolata gli artisti dei paesaggi rurali storici chiedo di raggiungermi qui al tavolo dei relatori Daria Nicolini Daria ci sei eccoti Cristina Scarpellini e Andrea Roggi maestro Andrea Roggi grazie sì dove preferisci allora una proprio due parole sul titolo della terza sessione avrete letto che l'abbiamo intitolata gli artisti dei paesaggi rurali storici non a caso perché faremo parlare in quest'ultima sessione del convegno quelli che sono gli artisti in senso diciamo figurativo quelli che vanno poi a plasmare a formare e a disegnare il paesaggio quindi gli agricoltori e poi ovviamente anche gli artisti veri in senso letterale che rappresentati diciamo dal maestro Andrea Roggi che terminerà e concluderà poi il convegno allora lasciamo la parola subito a Daria Nicolini Daria viene da Semproniano quindi rappresenta il territorio il paesaggio policulturale di Fibianello titolare del caseificio Valle degli Olivi prego Daria allora buonasera a tutti mi presento mi chiamo Daria Nicolini arrivo da Semproniano in provincia di Crosseto è un piccolo paesino di origine medievale del 1500 siamo ai piedi del Montamiata e davanti alle bellissime termi di Saturnia lavoro da circa vent'anni nell'azienda agricola di mio marito lui è la terza generazione di agricoltori e allevatori quindi alle nostre spalle il nostro gregge noi abbiamo circa 70 ettari siamo ai piedi dell'oliveta secolare di Fibianello questo paesaggio policulturale che è stato inserito nei 25 paesaggi storici e rurali e questi sono i nostri animali abbiamo circa 600 pecore da latte di razza sarda e una ventina di Brune Alpine la Brune Alpina non è un animale autocono della nostra zona è stata scelta per la sua duplice attitudine sia da carne che da latte fa un po' meno latte rispetto a una vacca frisona però è un latte di alta qualità in azienda è presente anche una vigna siamo nella zona della doc del Morellino di Scanzano facciamo IGT Sangiovese in Purezza un vino rosso corposo un vino di 14 gradi ben strutturato per accompagnare ragù carne rossa o formaggi stagionati presente sicuramente il nostro olio siamo ai piedi di questa oliveta secolare abbiamo circa mille piante all'interno dell'oliveta mille piante di tante varietà una cosa importante che volevo dire mi sono dimenticata che la nostra azienda è in conversione bio già da tre anni arrivati a cinque anni potremmo marchiare i nostri prodotti abbiamo sempre lavorato in modo tradizionale naturale però comunque il consumatore ha bisogno di un'etichetta di un riconoscimento ha bisogno di sapere che quel prodotto è realmente fatto con tecniche naturali quindi la nostra oliveta raccolte le olive in giornata spremote in giornata questo per dar sì che il nostro olio sia di alta qualità ma forse quello che esprime di più il paesaggio dove siamo e il territorio che rappresentiamo è il nostro formaggio pecorino al latte crudo questo è il nostro casificio che vedete la spalla il casificio è un casificio aziendale piccolino è nato nel 2010 siamo al lavoro io e mio marito lui è casaro io sono aiuto casaro facciamo pecorino al latte crudo che cos'è il pecorino al latte crudo è un formaggio tradizionale è un formaggio che non subisce alterazioni termiche cioè il latte non subisce alterazioni termiche noi lavoriamo a 37 gradi la temperatura naturale come il latte esce dalla mammella della pecora quindi non è né termizzato né pastorizzato è proprio per questo ricco di fermenti lattici naturali che si ritrovano i sapori e i profumi del nostro pascolo perché queste pecore che vi abbiamo fatto prima pascono nell'oriveta secolari di Fibianello dove lì pascono sia pascoli naturali o prati pascoli seminati da noi alla base di fare un buon formaggio bisogna fare un buon latte noi in azienda circa tutti i 70 ettari sono dedicati ai nostri animali noi facciamo fieno facciamo prati pascoli cereali tutto per far mangiare loro diciamo che noi chiudiamo la filiera e quindi è alla base dell'alimentazione fondamentale per avere un buon latte e poi per fare un buon formaggio nel 2016 siamo diventati presidio slow food pecorino a latte crudo di Marimma di Sempruniano proprio per anche slow food vuole tutelare questo prodotto particolare che sta scomparendo perché naturalmente tutti i vari casifici è facile fare la pastorizzazione uccide la flora batterica sia buona che cattiva però poi dobbiamo emettere una flora batterica chimica per far coagulare questo latte mentre noi usiamo quella naturale del nostro formaggio dato proprio dall'alimentazione naturale che hanno i nostri animali a proposito di questo per quanto riguarda i nostri prodotti in azienda è presente un punto vendita è stato inaugurato proprio dopo il covid nel 2022 una casina di legno dove i clienti possono acquistare sia i nostri prodotti olio, vino e formaggio ma anche prodotti del territorio prodotti di Sempruniano dove ci sono delle piccole aziende delle realtà che lavorano benissimo aziende biologiche che producono prodotti sani e genuini del territorio quindi noi abbiamo piacere ad averli nel nostro punto vendita oltre a questo facciamo anche accoglienza abbiamo un agriturismo io tante volte per scherzare dico il vero agriturismo perché noi siamo un'azienda agricola che lavoriamo e produciamo quindi l'agriturismo era nato proprio come integrazione al reddito agricolo poi è stato un po' stravolto il tutto ma effettivamente siamo rimasti pochi superstiti che abbiamo un'azienda agricola che produciamo e facciamo accoglienza importante è la colazione che facciamo perché vogliamo ricreare la tipica colazione maremmana quindi da noi in Maremma si fa colazione col prosciutto e col formaggio i nostri clienti hanno appunto una bella tavola un buffet dove possono servirsi sì anche di prodotti dolci che facciamo sempre fatti da noi però comunque principi della nostra colazione sono i nostri formaggi la nostra ricotta di latte o vino soprattutto il nostro yogurt che facciamo esclusivamente con il latte delle nostre pecore e poi un'altra cosa abbiamo scelto la tavola conviviale cioè si ritrovano a fare colazione tutti insieme in una grandissima tavola rettangolare proprio per favorire le relazioni sociali e di questo siamo molto contenti perché funziona tantissimo i nostri clienti sono felici di fare amicizia con persone che vengono a tutte le parti del mondo anzi sono nate delle belle amicizie che poi si ritrovano da noi e questo è tutto il nostro lavoro che sembra tutto così idilliaco ma purtroppo ci sono anche fattori negativi l'agricoltore si sa che è soggetto a tanto lavoro a tanti sacrifici ultimamente a quello che decide madre natura perché con questi agenti atmosferici sempre più irruenti sempre più forti ci destabilizza e ci crea dei gravi problemi in azienda però se è possibile vorrei spendere anche io due parole per il problema della predazione che negli ultimi anni sta causando tantissime chiusure di piccole aziende nella provincia di Grosseto delle aziende che si vedono costretti a chiudere perché non ce la fanno più a sopravvivere con il lupo questa è una cosa ben chiara anche noi ci abbiamo provato purtroppo non può esistere la pecora e il lupo nello stesso territorio ci abbiamo provato con i cani da guardania con i dissuasori con le reti antilupo non possono convivere nello stesso territorio la Maremma un posto un territorio dedito all'agricoltura la pastorizia e a vocazione della pastorizia purtroppo è stato stravolto dall'inserimento di questo lupo circa dieci anni fa e adesso non c'è più contenimento adesso già avevamo uno squilibrio della fauna selvatica tra cinghiali e caprioli che ci hanno sempre distrutto tutto ma adesso non ce la facciamo più a combattere con il lupo solo nella primavera e nell'estate abbiamo avuto più di dieci attacchi abbiamo dovuto riportare le pecore nella stalla ma vi ho parlato prima del pecorino che facciamo che per noi è importantissimo il pascolo le erbe i profumi tutto quello che poi noi ritroveremo nel sapore del nostro formaggio non possiamo tenere le pecore chiuse dentro una stalla per aver paura del lupo ma non possiamo nemmeno fare gli agricoltori come 50 anni fa cioè i pastori che si mettevano a guardiania del proprio greggio questo il mondo moderno non ce lo consente dobbiamo avere tempo bisogno di stare in azienda di produrre di lavorare non possiamo stare tutto il giorno a badare le pecore questo è chiaro quindi cerchiamo anche una sensibilazione da parte della popolazione oltre delle autorità perché molto spesso si sente dona 2 euro per il lupo in via di estinzione tra un po' ci sarà dona 2 euro per gli agricoltori in via di estinzione perché questa è la nostra fine ecco perché vorremmo anche un po' di sostegno e poi niente cosa vi posso dire venite a Maremma venite a Sempruniano alla Valle degli Olivi vi aspettiamo grazie per averci ascoltato grazie mille Daria grazie davvero per questa testimonianza da parte appunto di quelli che sono i protagonisti diciamo gli eroi i custodi qualcuno non so se c'è Ernesto in sala non lo vedo che diciamo è un come dire è uno di coloro che hanno è stato tra l'altro da poco anche nominato custode del territorio di Valle Corsa quindi un tema e una designazione assolutamente pertinente quindi storie di straordinaria ordinarietà mi vengo a dire e della Toscana andiamo invece in Valtellina andiamo in Lombardia parte la presentazione non parte allora un attimo sei bloccato allora grazie grazie per avermi invitato in questa veste parliamo della mia azienda la mia azienda è un'azienda vitivinicola che si trova in Valtellina quindi siamo in una zona direi piuttosto difficile da lavorare però che ha un paesaggio meraviglioso l'azienda si chiama tenuta Cherche e trae origine questo nome dalla zappa bidente che è proprio il mio logo e quindi perché in tiranese si chiama poi Cherchelle per cui da lì Cherche così uno capisce anche perché questo nome è un po' anche non proprio comune in Valtellina abbiamo diciamo così che è l'unica valle d'Italia che va da est a ovest pertanto abbiamo una 60 chilometri percorsi all'interno delle quali abbiamo le 5 le 5 sottozone noi produciamo in 3 di queste sottozone nasciamo in Valgella che è una delle 5 è la più grande con un'estensione di 144 ettari poi abbiamo nella 2018 acquisito un ettaro in inferno che è la più piccola delle sottozone ma anche la più tremenda l'inferno dice proprio di questo sono 54 ettari e poi abbiamo anche una piccola produzione di sassella che è diciamo così la zona la seconda per grandezza con 124 ettari allora qui vedo che va avanti io bloccherei poi perché se no continua forse a girare com'è che funziona non saprei blocco qua grazie per l'attenzione è stato bello vi saluto allora vedi eh sì solo che va da sé va da sé ok ma va da sola fermati qua ve lo dopo vai esatto perfetto così ci fermiamo beh questa è la sassella per dirvi come siamo continua ad andare comunque non si è fermato niente esatto fine presentazione ne facciamo così va beh io parlo lo stesso esatto allora direi che ehm prima con Elvira ha fatto alcuni passaggi importanti che riguardano proprio la viticoltura eroica faccio un esempio noi abbiamo 7 ettari di produzione sono circa 45.000 bottiglie immaginate abbiamo 1500 ore di lavoro l'anno tutto manuale perché i miei vigneti sono tutti a ritocchino non abbiamo niente come giropoggio giropoggio sarebbe eh dà la possibilità di entrare con le macchine in un modo abbastanza diciamo così eh che riduce di 400 ore l'anno quindi andiamo a 1100 invece che 1500 comunque insomma è un gran numero di ore quindi abbiamo un problema sicuramente che quest'anno abbiamo notato molto che è sicuramente la manodopera questo è uno dei primi temi eh stiamo facendo molto anche per recuperare delle persone che possono venire a lavorare con noi che hanno anche integrati sul territorio da poco quindi gente anche di colore che tra l'altro sono anche molto bravi io ho due ragazzi che lavorano con me e sono addetti proprio alla parte di viticoltura quindi proprio sul campo chiaramente questa manodopera ci permette di avere sicuramente dei prodotti di qualità ne abbiamo parlato prima però il tema della qualità è anche un tema legato al paesaggio quindi il tema del paesaggio per noi è fondamentale il vino di Valtellina oggi è definito il vino paesaggio e c'è un motivo perché abbiamo questi 2500 chilometri di muri a secco che vengono chiaramente mantenuti tutti dai viticoltori perché il primo responsabile del vigneto è il viticoltore e il primo ad intervenire nel caso in cui crolli un muretto secco è il viticoltore pertanto sul territorio quello che è poi il lavoro più grosso è proprio il lavoro di mantenimento e di tutela del paesaggio questa è una delle cose che mi sento di dire quindi il discorso dell'abbattimento dei costi è sicuramente un tema importante per noi perché il contenimento della mano d'opera con l'utilizzo delle nuove tecnologie che stiamo già sperimentando ma che sapete l'utilizzo di droni in Italia non è permesso non ci sono deroghe quindi questo è un tema sul quale stiamo lavorando con Regione Lombardia per cercare di capire quali sono e quali potrebbero essere gli aspetti positivi di questi interventi chiaramente riusciremo ad abbattere un buon numero di ore perché i trattamenti vengono fatti completamente a mano quindi insomma da quel punto di vista questo è un primo step l'altra cosa che mi sono segnata è per la ricostruzione dei muri a secco noi abbiamo attivato sul territorio e in azienda io ho mandato due dei miei a fare questi corsi abbiamo attivato con ITLA e anche con il percorso con una scuola professionale locale il percorso che ci permette di identificare una figura che è il costruttore dei muri a secco quindi non è un percorso ancora certificato ma con Regione Lombardia ci stiamo lavorando due dei miei ragazzi sono già andati a fare questi corsi questo significa che internamente all'azienda abbiamo la possibilità di ricostruire in autonomia però poi succede che c'è un problemino perché quando poi il piano di sviluppo rurale ci permette di fare il bando per la ricostruzione dei muri a secco e noi non possiamo andare a così identificare il lavoro in economia e quindi a giustificarlo lì c'è un po' un inghippo l'azienda attualmente pare che possa fare un passaggio in più però ricordatevi che in Valtellina su 820 etterri vitati e 52 aziende perché a differenza di posti dove si parla di abbandono da noi siamo in crescita ci sono tantissime aziende nuove anche piccole poi bisognerà vedere sul lungo termine cosa succederà però questo è un po' il tema attuale mi è piaciuta l'idea di essere diciamo nella parte degli artisti perché cosa vuol dire per me fare vino e poi io vengo ho fatto per tanto tempo un altro lavoro poi mi sono innamorata di questo territorio nel 2006 quando ho incontrato la Valtellina e non sono valtellinese di origine per cui questo è anche secondo me un modo per farvi capire che c'è possibilità quando ci si innamora di un territorio di arrivare e cercare anche di non cambiare le cose ma di vedere le cose di avere una visione differente di quello che è localmente già molto così intrinseco nella tradizione eccetera cosa vuol dire questo per me se tradotto nel guardare quella che è l'esigenza reale che il territorio mi chiede e in questo caso la vite e intervenire quando ce n'è la necessità lo dico perché l'approccio invece classico deve essere di usare i fitosistemici classici per 14-15 trattamenti quindi di fare senza pensare a volte perché la tradizione dice così e uno fa invece io parto dal pensiero da sempre anche con i miei ragazzi ho cercato sempre di istruirli in questo modo di guardare la realtà perché la realtà parla se io guardo la realtà la osservo questa parla e quando si esprime in un certo modo che poi proprio si esprime perché chiaramente la pianta parla da sé allora c'è il caso di c'è l'intervento o meno infatti non siamo siamo in lotta integrata quindi abbiamo sette trattamenti normalmente massimo quest'anno è stato un anno un po' particolare siamo arrivati anche noi a dieci come quasi tutti forse qualcuno anche di più e quindi questo è un approccio della quale vado molto orgogliosa quindi molta osservazione e poco ragionamento questo penso che conduca alla verità come diceva Alexis Carrell per chi lo ricorda bene vi ringrazio molto e grazie grazie Cristina Scarpellini azienda vitivinicola tenuta cerce quindi arte e bellezza a questo punto non possiamo che concludere in bellezza mi viene da dire quindi concludiamo questa giornata di confronto in grande stile direi quindi passiamo dagli artisti del paesaggio agli artisti della scultura in questo caso e diamo la parola al maestro Andrea Roggi per qualche pillola sul suo percorso sulla sua storia e su come rappresenta la vita nella fattispecie attraverso le sue opere grazie mille grazie non so se ci sono degli slide o un filmato che i miei collaboratori hanno preparato anche se sicuramente conoscendomi non seguirò quello che che hanno fatto e quindi comunque nel frattempo sì probabilmente questo sì sì siamo qua siamo nella Val di Chiana prima io vedevo i miei luoghi dove sono dove abito dove sono cresciuto in realtà la Val di Chiana io l'ho conosciuta anche in modo diverso prima era più un giardino più diciamo tutti gli appezzamenti di terreno erano piccoli e quindi era piena di di vita rispetto adesso perché era piena di alberi e così comunque veniamo a me diciamo volevo ringraziare comunque tutti quanti essere qui per me è un grande onore questa terra che questa terra che in cui siamo ha una ricchezza enorme anche perché è stata un crocevia di mille culture e secondo me l'incontro di più culture più vite moltiplica la la forza di noi stessi insomma anche perché io penso che siamo una cosa sola ultimamente ho fatto ho presentato una scultura a cui era presente anche il nostro sindaco a Firenze l'ho chiamata l'energia della vita praticamente una delle mie sculture all'interno di questa aveva una piccola sfera che rappresenta praticamente piena è stata fatta insieme con un gioielliere molto famoso e è composta da più di duemila pietre preziose questo non per aumentare il valore dell'opera ma per far capire che il concetto di vita è estremamente importante che questa sfera rappresenta un po' il mondo io immagino che la vita nel mondo sia una cosa sola cioè siamo parte di di un del tutto praticamente quindi non esiste un singolo individuo ma esiste una cosa globale e quindi il fatto che noi stiamo parlando qua di agricoltura di paesaggio perché proprio è quello è l'aspetto della vita e quindi dicevo essere qua per me è molto importante perché i miei lavori alla fine non finiscono quando escono dal mio laboratorio dal mio studio ma si completano con il paesaggio che li accoglie la scultura che ora qui è esposta nel lungomare in realtà rappresenta il mondo rappresentato con un cerchio diciamo e praticamente dentro questo mondo potete vedere quello che abbiamo quello che avete nel senso che praticamente si vede Amalfi si vede il mare quindi la scultura non è composta solo dal bronzo ma anche di quello che ha dentro di sé o intorno a sé quindi voglio dire è molto importante presentare i miei lavori in posti che hanno una ricchezza che hanno una tradizione di cultura estremamente forte come quella nostra come quella vostra io ho avuto la fortuna che mi sono accorto dopo di essere fortunato nel senso che sono nato da una famiglia di lavoratori della terra di contadini e questo mi ha permesso di capire quello che è la diciamo il valore di noi stessi insomma quanto è importante per noi la terra la nostra terra è da lì che noi abbiamo tutto praticamente e il fatto di vedere lavorare la terra di vedere le piante il ciclo della vita mi ha permesso poi di riportarla dentro quello che faccio alla fine un artista è un po' un testimone del nostro tempo normalmente mette se stesso in quello che fa non è altro un'estensione del proprio del proprio corpo del proprio essere insomma e quindi in quello che io cerco di fare sono le cose in cui credo quindi le cose vere della vita cerco di metterle dentro i miei lavori quindi ritroverete nei miei lavori le radici cioè il nostro passato rappresentato in modo forte per dire la scultura che ho presentato qua a un gruppo di radici estremamente importanti a rappresentare quello che siamo quello che i nostri predecessori ci hanno lasciato non peraltro qua di quello che stiamo parlando di quello quanta fatica è costata strappare da niente se io ero in cima diciamo ad Amalfi questa mattina per vedere i luoghi dove mi auguro di poter esporre i miei lavori dalla prossima primavera possiamo immaginare come poteva essere inizialmente questo luogo cioè in ospitale al 100% perché non c'era niente di utile mentre adesso vediamo quello che ci dà anche a livello di fa bisogno alimentare insomma quindi quanta sforzo quanta fatica hanno fatto in Italia in tanti luoghi per renderli un giardino completo insomma ecco e quindi niente come dicevo per me rimanere qui essere qua è stata veramente una bella un bel incontro perché Amalfi è estremamente importante per valorizzare quello che io sto facendo grazie 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 mille grazie mille allora Andrea Roggi che a questo punto conclude tutti gli effetti della giornata una ultima curiosità quest'opera qui ha un nome? questo fa parte del del tema dell'albero della vita simile a quello che abbiamo già spero che avete visto nel lungomare insomma quindi in questo caso rappresento il mondo da questa questa sfera che tra l'altro è un io realizzo i miei lavori visto che siamo qua vi spiego un po' quello che faccio realizzo i miei lavori soprattutto in in bronzo anche se uso e provo in marmola c'è inox io sono molto un tecnico mi sento più un artigiano che non un artista come intendono molti che fanno fare tutti gli altri e praticamente realizzo i miei lavori con la tecnica di la fusione a cera persa in gran parte ma le sfere i cerchi che vedete in giro sono fatti con una tecnica che ho chiamato fusione dinamica che abbiamo anche proviettato nel mio studio praticamente una tecnica che ci permette di ottenere diciamo il bronzo in modo molto più organico la tecnica di cera persa difficilmente riusciremo a ottenere questi effetti di plasticità di differenza della superficie che mi serviva per poter rappresentare il nostro territorio il nostro mondo in modo un po' più tra virgolette vero insomma e da lì praticamente si può vedere l'albero della vita cioè noi stessi che io rappresento come due figure perché voi chiaramente vedete l'albero praticamente ma nella mia idea io non voglio rappresentare un albero voglio rappresentare noi stessi nell'idea che dovremmo comportarci proprio come gli alberi perché l'albero praticamente anche in un terreno non cioè inquinato riesce ad assorbire i nutrienti giusti riesce a selezionare quello che è più buono rispetto a quello che è meno buono per se stesso per poi creare i frutti cioè darle alle nuove generazioni le olive che io rappresento perché comunque diciamo che nella mia idea diciamo l'albero che per eccellenza quello che nella nostra cultura ha più tra virgolette importanza perché ha più significati è quello dell'olivo ecco perché ho scelto l'albero di olivo per rappresentare noi stessi perché immagino che ha più forza ha più magia perché comunque ecco anche l'olivo ha molte valenze sia per noi ma anche per buona parte del mondo ecco perché così grazie mille grazie a questo punto concludiamo non so se il sindaco vuole dire qualcosa in conclusione no? seduta ufficialmente chiusa andate in pace grazie a tutti grazie a tutti